Bene, allora penso che possiamo incominciare. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Normale Superiore. Siamo nel 209 anniversario del decreto di fondazione. Questo è un indirizzo di benvenuto. Do il benvenuto per prima cosa a tutte le autorità civili, alla vicepresidente della Regione Toscana, al prefetto e al questore di Pisa. Benvenuto al sindaco di Pisa e all'assessore alla cultura, al sindaco di San Miniato. Grazie di essere qui alla senatrice Rossellina Sbrana, all'onorevole Lucia Ciampi, alla senatrice Elena Cattaneo, che sarà anche nostra allenatrice quest'oggi. E benvenuto anche al presidente della comunità ebraica di Pisa. Un saluto e il benvenuto anche alle autorità militari, al comandante provinciale dei Carabinieri, al comandante regionale della Guardia di Finanza e al comandante della Guardia di Finanza di Pisa, al comandante della 46esima Brigata Aerea di Pisa, al rappresentante del reggimento logistico. Passando alle autorità accademiche, saluto e do il benvenuto iniziando dalle due scuole federate con la scuola normale, la rettrice della scuola superiore Sant'Anna e il rettore dell'OIUS di Pavia. Ringrazio per la loro presenza qui i direttori della scuola IMT di Lucca, della Sissa di Trieste e della scuola Galileiana di Padova, e poi i prorettori e delegati delle università di Pisa, la Sapienza di Roma, Firenze e dell'Università per stranieri di Siena. E' qui con noi oggi anche Fabio Beltran, che per sei anni è stato direttore della scuola ed è qui anche nella vece di consigliere Anvor. Saluto il vice direttore della scuola Andrea Giardina, i due presidi qui presenti, i professori emeriti e tutti i nostri professori e ricercatori intervenuti quest'oggi, oltre naturalmente ai tanti allievi ed ex allievi e il personale tecnico e amministrativo. Saluto il nostro segretario generale Aldo Tomassin, un benvenuto al direttore generale dell'Università di Pisa e al direttore amministrativo della scuola IMT di Lucca. Un grazie anche per essere qui al presidente dell'Associazione Amici della Scuola Normale, quella quale abbiamo avuto una riunione giusta stamattina, Giuliano Amato, al presidente dell'Associazione Normalisti Roberto Cerreto e al tesoriere Mario Di Napoli. Un benvenuto ai presidenti della Fondazione Pisa, della Fondazione Livorno, della Fondazione Palazzo Blu, alla presidente della Fondazione Teatro di Pisa, al presidente e al direttore generale della Camera di Commercio di Pisa, alla presidente dell'Unione Industriale Pisana, al presidente della Fondazione Puteano, al presidente dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. Lasciatemi concludere questo indirizzo di saluto con un saluto e un ringraziamento particolare per i professori Roberto Antonelli, la senatrice Elena Cattaneo e il professor Marino Reggini. Con le loro tre conferenze, che seguiranno gli indirizzi di saluto, abbiamo proprio voluto rappresentare al meglio quelle che sono le tre articolazioni principali della scuola, quella umanistica, quella scientifica e quella delle scienze sociali. Quindi ora ho il piacere di presentare la professoressa Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana, che farà un breve indirizzo di saluto. Grazie. Buon pomeriggio, magnifio rettore, autorità, studentesse e studenti e docenti di questa scuola e delle altre università. Io sono lieta e onorata di portare il saluto a questa cerimonia di inaugurazione. I luoghi dell'alta formazione e della ricerca sono fondamentali per i nostri territori. Formano i giovani ai più alti livelli e contribuiscono in tal modo a creare futuri lavoratori e cittadini attivi, portatori di nuove energie creative e innovative, fondamentali per lo sviluppo economico e sociale delle regioni e del Paese. Questi giovani rappresentano oggi una delle principali risorse che abbiamo. A elevati livelli di istruzione universitaria e di ricerca corrispondono maggiori livelli di innovazione, maggiore competitività e quindi più elevate capacità di crescita economica, ma soprattutto di progresso sociale. Tutto ciò è alla base dell'impegno che la Regione Toscana da anni investe nelle politiche per il diritto allo studio, per l'alta formazione, la ricerca e la partecipazione culturale, cercando non solo di facilitare e sostenere economicamente l'accesso, ma di favorire anche la formazione di competenze di altro profilo, che possano poi trovare collocazione all'interno di ambiti strategici del sistema economico-produttivo della Regione, rafforzandone la competitività. Abbiamo cercato di costruire negli anni una politica coerente, che dallo studio porti al lavoro in una logica di filiera, adottando un approccio integrato che valorizzi l'alleanza fra università, enti di ricerca, imprese, scuole e istituzioni culturali. Il compito delle istituzioni è anche quello di facilitare il dialogo e mettere a valore positivo le specificità e le differenze in una prospettiva di crescita culturale e di collaborazione reciproca. Il nostro impegno in questi anni di mandato è stato volto proprio alla creazione di un sistema di collaborazione, di dialogo e di valorizzazione delle differenze. Sono tante le iniziative e le misure che abbiamo costruito insieme. Ringrazio davvero tutti i docenti universitari, i magnifici rettori, i delegati che hanno voluto lavorare con noi in questi anni. Abbiamo istituito nuovamente la conferenza dei rettori della Toscana. Insieme abbiamo costruito l'osservatorio della ricerca e dell'innovazione in Toscana. Abbiamo aperto un ufficio di tutte le università toscane a Bruxelles e stiamo per aprire un ufficio per il trasferimento tecnologico regionale che si affianca a quello già esistente dedicato alle scienze della vita che da anni opera all'interno della regione e in collaborazione con le università e con i centri di ricerca. Abbiamo lavorato insieme sui dottorati, sui dottorati Pegaso, sugli assegni di ricerca, ma anche sulla formazione di figure tecniche specializzate proprio in quei settori che sono più complessi da formare all'interno delle università come ad esempio gli addetti al trasferimento tecnologico. Di tutto questo ringrazio ancora le università per il dialogo e la collaborazione e auguro un buon anno accademico alla scuola normale e superiore. Invitiamo adesso a portare il suo saluto il sindaco di Pisa Michele Conti. Buonasera a tutti. Con grande piacere porto il saluto della città di Pisa. Un saluto di grande cordialità al corpo accademico della scuola normale e superiore, al personale amministrativo e tecnico, alle studentesse e agli studenti che insieme ai docenti compongano l'universitas, la comunità di studi e di approfondimento di ricerca e proiezione verso il futuro. Un saluto di benvenuto agli ospiti accademici arrivati a Pisa da altri prestigiosi Atenei d'Italia. Ringrazio il direttore della scuola normale e superiore, Luigi Ambrosio, per l'invito a essere presente nelle inaugurazioni di questo anno accademico, che si tiene tradizionalmente il 18 ottobre, nell'anniversario della fondazione di questa prestigiosa istituzione. Da sempre e in misura maggiore nell'epoca complessa in cui viviamo, le università e i centri della ricerca scientifica e dell'alta formazione sono istituzioni strategiche per lo sviluppo del Paese e, in particolare, per il loro territorio di riferimento. Pisa possiede una grande ricchezza, ospitando la scuola normale e le altre prestigiosi istituzioni universitarie. Ed è proprio grazie a questa ricchezza che si vede riconosciuto un importante risultato in termini di rango urbano, che va oltre i propri confini comunali e le dimensioni medie della città, in termini demografici, come ha dimostrato una recente indagine dell'IRPET. Pisa si configura come una vera e propria cittadella universitaria, che fa dell'offerta di istruzione allevata specializzazione uno dei principali punti di forza per l'attrattività. Il nostro impegno è quello di valorizzare questa attrattività puntando sulla vivibilità della città, in cui natura, cultura e storia si intrecciano, rappresentando una dimensione ideale per le attività di studio e ricerca, che da qui dialogano con il resto del mondo. Pisa è una città delle scienze, dei saperi scientifici e tecnologici e delle scienze umanistiche, che hanno saputo utilizzare codici e linguaggi e spiegare al mondo intero gli importanti risultati di ricerca conseguiti fin dai tempi di Fibonacci e di Galileo. In una frase, le strutture universitarie sono ancora oggi un asse fondamentale della vita culturale ed economica della città. L'auspicio per il futuro è una sempre maggiore collaborazione fra tutte le istituzioni cittadine per costruire insieme risposte qualificate e sempre più avanzate alle sfide che ci pongono davanti, da un lato alla dimensione globale con temi ambientali, economici e sociopolitici, e dall'altro alla dimensione locale, nella misura in cui le conoscenze qui sviluppate diventano immediatamente trasformabili in innovazioni e risorse umane, di elevata qualità, pronte per il mondo del lavoro. Buon lavoro a tutti e buon anno accademico. Grazie. Porta ora il suo saluto il Presidente dell'Associazione Normalisti, Roberto Cerreto. Grazie. Autorità, signore e signori, sono molto grato al Professor Ambrosio per aver invitato l'Associazione Normalisti a rivolgere un breve indirizzo di saluto alla comunità degli allievi, ricercatori e docenti della scuola nel giorno del suo compleanno, così lo chiamiamo qui, e della inaugurazione del nuovo anno accademico. E del resto per offrire un luogo di incontro e di dialogo a questa comunità che nel 1997 nacque, per iniziativa di un comitato promotore presieduto da Alessandro Faedo e sotto la presidenza del compianto Luigi Radicati, l'Associazione Normalisti, riallacciandosi idealmente a un'antica iniziativa di Giovanni Gentile. Ecco, il primo obiettivo dell'Associazione, dunque, era ed è quello di coltivare il senso di appartenenza a una comunità di persone e di valori, memori del motto caro a un grande normalista, Carlo Azzegno Ciampi, che dell'Associazione fu anche fino all'ultimo presidente onorario e alla cui figura la normale, insieme ad alcune delle altre istituzioni cui è legato il nome di Ciampi, sta dedicando proprio in questi mesi un ciclo di importanti iniziative in vista del centenario della nascita, dopo averli intitolato un istituto presso la sede di Firenze e una cattedra finanziata dalla nostra associazione Cugina, se posso permetterci, l'Associazione Amici della Normale, di cui saluto il presidente Amato. Ciampi, come molti dei presenti già sanno, amava ripetere semel normalista, semper normalista e questo, oltre a esprimere perfettamente lo spirito della nostra associazione, credo sia anche il migliore messaggio di benvenuto che l'Associazione può rivolgere ai nuovi allievi del corso ordinario che hanno fatto il loro ingresso alla scuola pochi giorni fa. Una comunità, dunque, formata di individui che apprendono in queste aule a coltivare un metodo basato sull'amore per la conoscenza, sulla libertà del confronto e sul rigore. Quello stesso metodo che, ahimè, oltre 20 anni fa ebbe modo, se non di apprendere, almeno di vedere applicato dal professor Claudio Cesa, che dell'Associazione fu anche presidente dal 2000 al 2003, dopo radicati e prima di Franco Montanari. Ecco, eppure coltivare un senso di appartenenza, una tradizione, per quanto nobile, essa sia, non esaurisce, credo, il compito di un'associazione di alumni. Quando tre anni fa il mio predecessore Umberto Sampieri e l'allora direttore Fabio Beltram mi proposero di candidarmi a presidente dell'Associazione, il nostro obiettivo condiviso era proprio quello di rafforzare la collaborazione tra l'Associazione e la scuola. Certo, questo per rendere più vitale l'Associazione, che avendo soci sparsi in ogni parte del mondo non può funzionare senza un punto d'appoggio operativo qui a Pisa, ma anche e soprattutto per mettere a disposizione della scuola, in particolare dei suoi allievi, lo straordinario patrimonio di esperienze interne ed esterne al mondo accademico e della ricerca, di cui l'Associazione naturalmente ipso facto portatrice. Solo che la si sappia mettere in rete, che le si sappia mettere in rete, come usa dire, e portare a contatto con quanti oggi insegnano e studiano alla scuola. E dunque il placement degli allievi, il mentoring, verso quanti di loro lo desiderino, è il naturale, insomma, per comune sentire nostro e della scuola, il terreno di questa collaborazione, il terreno più naturale di questa collaborazione. E dunque, credo che, insomma, non c'è, non v'è dubbio che oggi la normale stia attraversando una fase di cambiamento profondo, che apre grandi opportunità, e questo naturalmente sarà il direttore, come giusto che sia, a illustrare, insomma, la direzione, il senso e le potenzialità di questa evoluzione. Come associazione, nel nostro piccolo, insieme alla vicepresidente Risa Guidi, al collega Mario Di Napoli, a tutti i componenti del direttivo, compresi i rappresentanti degli allievi, cercheremo di dare un piccolo contributo a questa evoluzione, dedicando una prossima assemblea dell'associazione, proprio al ruolo delle scuole superiori, oggi, nel contesto europeo dell'università e della ricerca. Perché il processo di federazione delle scuole superiori è sicuramente tra le sfide più significative e appassionanti che la scuola, anzi che le scuole, hanno davanti a sé. Un processo con qualche incognita e grandi potenzialità, come ogni vera trasformazione, che viene da molto lontano, se ne parlava già appunto vent'anni fa, e che credo imponga anche all'associazione, anzi alle associazioni degli allumni delle varie scuole, uno sforzo di collaborazione sempre più stretta. Dunque, un sincero augurio di buon lavoro al nuovo direttore, di un ottimo anno accademico a tutte le componenti della scuola e buon compleanno a tutti noi. Grazie. Porta ora il suo saluto in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo Gian Donato Tartarelli. Caro direttore, cari studenti, egregie autorità, gentili ospiti, è con estremo piacere che porgo a tutti voi il mio cordiale saluto all'inizio di questo nuovo anno accademico a nome del personale tecnico-amministrativo. La nostra scuola coltiva e premia il talento e le eccellenze, scommette sulla ricerca metodologica, introduce innovazioni tecnologiche e promuove la cultura scientifica e umanistica. I nostri studenti animano una scuola ricca di storia ed imperitura e di più che bisecolare autorevolezza, una scuola che è sempre stata in grado di aggiornarsi per rispondere alle continue sfide che la ricerca scientifica impone. Tutto il personale tecnico-amministrativo, insieme al personale di ricerca, si prodiga per garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio erogato con partecipazione, sacrifici e spirito istituzionale, anche quando il riconoscimento del proprio impegno è messo a dura prova. Il nuovo anno accademico sia per tutti foriero di positività e mentre il dibattito politico promette maggiori attenzioni e maggiori investimenti per la ricerca e per i lavoratori della conoscenza, noi, e intendo tutte le componenti della scuola, continuiamo a costruire giornalmente l'eccellenza della formazione di cui necessitano il nostro territorio, il nostro paese e la nostra Europa. Il dialogo sempre più intimo che studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo riusciranno a creare, mettendo in pratica lo spirito di comunità e i principi che questa scuola ha sempre coltivato, ci consentirà di promuovere sinergie a sostegno della crescita e del successo dei nostri studenti. Quello stesso spirito di comunità, tanto caro a uno degli allievi più illustri, Carlo Azzelio Ciampi. Alle studentesse e agli studenti auguro di vivere la propria esperienza accademica con gioia, impegnarsi con responsabilità di essere protagonisti, ma sempre rispettosi degli altri. Il sapere è una conquista, un valore individuale, è un dovere sociale e civile, ma il sapere richiede sforzo, impegno e applicazione quotidiana. Ma siamo particolarmente convinti che voi, voi studenti, non ci deluderete, non lo avete mai fatto. Ai miei colleghi rivolgo il mio vivo ringraziamento per l'impegno già profuso a garanzia dell'efficiente avvio di questo anno accademico e a celebrazione di questo evento, per la cordiale e fattiva collaborazione, per la colorosa accoglienza che avete riservato ai nuovi studenti, per il rispetto dei tempi e delle scadenze. Sia il nostro lavoro, nonostante il suo intestificarsi, nonostante le a volte evitabili frustrazioni, vissuto con serenità professionale, condivisione e responsabilità. A docenti e ai ricercatori auguro un anno sereno e proficuo, il piacere della ricerca, la vivacità dell'innovazione e la giusta gratificazione dei risultati. Avrete sempre accanto il personale tecnico-amministrativo per il riconoscimento sociale del vostro insostituibile lavoro e i traguardi culturali dei nostri studenti garantiranno ora in come in passato l'identità e lo sviluppo della nostra istituzione. Buon lavoro a tutti. Porta ora il suo saluto in rappresentanza degli allievi e degli allevi della scuola, Ottavia Casagrande. Buongiorno a tutte e tutti. Io sono un'allieva del corso ordinario qui alla scuola e sono qui, come si diceva, per il corso ordinario. Vi saluto come potete immaginare, è un onore per me parlare in questo momento importante e simbolico che rappresenta l'inizio di un nuovo percorso a cui noi tutti, allieve e allievi, vogliamo partecipare in maniera costruttiva. Per noi è un momento particolare anche perché stiamo accogliendo i nuovi arrivati e stiamo salutando dei vecchi amici e questo ci ricorda, come diceva anche il presidente dell'Associazione Normalisti, che la scuola normale è soprattutto una comunità. Ed è questo senso di comunità, questa peculiarità della scuola che ci permette di avere un'esperienza unica e che ci fa crescere ogni giorno, sia a livello accademico che a livello personale. E anche per questo noi speriamo che questa rete con gli allievi, le allieve, con gli ex allievi sia sempre più accresciuta. Grazie a questo la scuola per noi può rappresentare sia una sfida costante con i nostri limiti, ma anche e soprattutto un'opportunità di dedicarci alle nostre passioni e di avere scambi proficui con gli altri. Poi come in ogni momento importante e significativo come questo ci fermiamo un attimo a riflettere e da parte nostra siamo contenti di accogliere i cambiamenti recenti della scuola, tutti pensati in vista del benessere della comunità e anche e soprattutto di noi allievi che siamo i principali destinatari dei servizi della scuola. E questo ci rende felici di poter migliorare ogni giorno questa esperienza. E ora vi saluto, vi auguro un buon anno accademico e un buon pomeriggio per quello che ci aspetta. Ascoltiamo adesso la prolusione del direttore della scuola normale, professor Luigi Ambrosio. Bene. Allora, sentirei di essere reticente se questo mio discorso inaugurale non esordisse dalla crisi istituzionale senza precedenti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi e che ha portato alla mia direzione. La scuola, intesa sia come istituzione che come comunità, ha vissuto mesi molto difficili, nei quali tutti noi ci siamo interrogati e abbiamo discusso a lungo su cosa fosse meglio fare, mentre eravamo indubbiamente sottoposti a forti pressioni anche da parte dei media. Come sappiamo bene, le crisi aiutano a crescere e questo vale per gli individui come per le comunità e le istituzioni. Siamo stati messi a dura prova e ne siamo emersi forse con alcune ferite, ma anche con alcune convenzioni rinnovate, l'importanza cruciale della condivisione, un compito cui ognuno di noi è chiamato direttamente, la forza della nostra comunità, le grandi potenzialità della scuola che potranno però esprimersi al meglio solo se saremo in grado di affrontare e risolvere insieme alcune di queste criticità. Meno di una settimana fa abbiamo celebrato proprio in questa sala un personaggio fondamentale, molti di voi erano presenti per gli ultimi decenni della normale, il fisico Luigi Radicati, recentemente scomparso. Radicati è insegnato in normale per oltre 30 anni, è stato preside, incidentalmente era preside nel momento in cui arrivai alla scuola come allievo, vice direttore e infine direttore della scuola. Negli anni in cui Radicati lavorava in normale, la scuola era governata da personalità di livello assoluto. Oltre a Radicati vorrei ricordare Paola Barocchi, Gilberto Bernardini, Edoardo Vessentini, Gianfranco Contini, Egno De Giorgi, Giuseppe Nenci, non solo grandissimi specialisti nei rispettivi campi ma anche, vorrei dire soprattutto, figure di grande spessore. La loro corrispondenza, di cui il nostro archivio tiene scrupolosa traccia, ci descrive una cura paziente amorevole per la scuola, uno standard morale e intellettuale elevatissimo, un grande senso di responsabilità verso la comunità umana e scientifica. Mi pare che questi ultimi esempi del recente passato, non così lontano in fondo, richiamino ognuno di noi, dal direttore agli allievi appena ammessi, a questi valori e a questi doveri. Dovremo prima di tutto sforzarci di essere all'altezza della statura di chi ci ha preceduto, del compito che ci ha affidato, della comunità di cui facciamo parte. Consentitemi anche una piccola notazione personale. Pur avendo avuto da tempo ovviamente un ruolo pubblico all'interno della mia comunità scientifica di riferimento, ovviamente non ero del tutto preparato al ruolo pubblico che inevitabilmente si accompagna quello di direttore. In realtà, sorprendentemente, almeno questo aspetto si è rivelato molto più facile del previsto, non altri. E di questo devo innanzitutto ringraziare molte delle autorità presenti per il sostegno che ho ricevuto in occasione dei vari incontri che ho avuto in questi primi cinque mesi di mandato. A questo livello istituzionale vorrei ringraziare, e scusatemi se non ricordo tutti, il Presidente Rossi e la Vice Presidente Barni per importanti iniziative in corso relative all'immobile in via Roma e per il supporto già ricordato dalla Presidente Barni a tante iniziative di ricerca, il Presidente Amato per l'impegno continuamente espresso per l'Associazione Amici, la Fondazione Pisa e in particolare l'Avvocato Claudio Pugelli per il supporto, non solo, ma in particolare per il supporto dato alla nostra stagione concertistica e anche all'Associazione degli Amici, il Dottor Riccardo Vitti per un recente finanziamento della Fondazione Livorno, proprio legato al nome del Presidente Ciampi, il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, per la collaborazione in corso verso la ricerca di una soluzione positiva dei problemi della Domus Galileiana e il Sindaco Michele Conti di Pisa per la collaborazione su tanti fronti, in particolare qui vorrei ricordare gli eventi che hanno e avranno luogo qui in Piazza dei Cavalieri e il sostegno dato all'iniziativa nata quest'anno Pisa accoglie il talento. Nell'ambito di quello che mi piace chiamare l'ecosistema pisano della ricerca c'è un altro punto che ci tengo molto a sottolineare ed è il rinforzato spirito di collaborazione tra scuola normale, Università di Pisa e scuola superiore Sant'Anna, nell'ottica di un rapporto che va letto come simbiotico e certo non come competitivo. Qui mi limito a citare, oltre all'iniziativa che ho già menzionato, Pisa accoglie il talento, che è nata da una felice intuizione della rettrice Sabina Nuti, nuove convenzioni stipulate proprio in questi ultimi mesi, qualcuna proprio negli ultimi giorni, grazie all'impegno dei rispettivi prorettori alla didattica, che ringrazio, che arricchiranno le nostre offerte formative e che agevoleranno moltissimo la mobilità in Italia e all'estero dei nostri allievi. Sempre nell'ambito pisano vorrei menzionare una recente convenzione con vari laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, della Scuola Sant'Anna e dell'Università, che ha coinvolto anche la Scuola IMT di Lucca, su Big Data e intelligenza artificiale, per la nascita di un laboratorio congiunto proprio su questi temi, Data Science e intelligenza artificiale, e anche una recente convenzione quadro con l'Unione Industriale Pisana per avvicinare maggiormente il mondo delle imprese alla scuola normale. In questo ambito naturalmente resta sempre operativo e funziona perfettamente lo sportello Giotto, che condividiamo con la Scuola Sant'Anna, la Scuola IMT di Lucca e la Scuola IUS di Pavia, che tra le altre attività ogni anno organizza giornate d'incontro tra gli allievi delle rispettive istituzioni e le aziende italiane. Allargando un po' l'ambito, da ormai qualche anno la normale fa parte di un ecosistema ovviamente molto più ampio, anzitutto per a Firenze, dove è un polo accademico, il Dipartimento di Scienze Politico-Sociali, sempre più vivace, internazionale e integrato. Vorrei ringraziare in particolare il Rettore Dei di Firenze per la collaborazione in corso, sia nell'ambito del corso di laurea magistrale in Scienze Politiche, sia per la ricerca, che è supportata anche dal Comune di Firenze, di nuovi spazi per il nostro polo fiorentino. Inoltre la normale, da quasi due anni, componente della Federazione delle Scuole di Eccellenza, con Sant'Anna e Pavia, come è già stato ricordato. Penso di poter parlare, o spero di poter parlare, a nome di tutti i Rettori, se dico che è un importante processo di riflessione sulla Federazione in atto, che da un lato valorizzi al massimo l'esperienza in corso, senza però dare nulla per acquisito. In questo importante processo sono sicuro che ci avvarremo dell'esperienza e della competenza del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dottor Salvatore Rossi, e dell'Avvocato Giuseppe Toscano, che qui saluto e ringrazio pubblicamente per la disponibilità dimostrata, e del Dottor Fabio Belasso. A tutti loro i miei auguri più sinceri di buon lavoro. All'inizio di ogni accademico è tradizione che il Rettore illustri sommariamente l'attività svolta e le linee programmatiche dell'Ateneo, tradizione che noi in qualche modo abbiamo anche voluto incorporare nello Statuto. Prima di far questo, pur con tutti i limiti che derivano dal recente inizio del mio mandato, vorrei fare una riflessione. In questi mesi, prima e dopo l'inizio del mandato, ho avuto modo di ragionare su come io debba interpretare il ruolo del Direttore, perché naturalmente su questo esistono margini interpretativi. C'è l'aspetto della gestione corrente, che è certo molto impegnativa, che è fuori discussione e che si cerca di svolgere al meglio. Riguardo alla progettualità, io penso che al di là di linee di indirizzo e prospettive generali, il Direttore della Scuola debba, tenendo naturalmente conto di vari vincoli globali, di budget, spazio e personale, agevolare e indirizzare quella che è la naturale progettualità del corpo docente, che nel caso particolare della scuola normale consiste di molte figure apicali nel loro settore di riferimento. Che questo sia così lo si vede anche dalle notevoli performance, ad esempio nei bandi PRIN a livello nazionale e IRC a livello europeo. Nell'ultimo bando PRIN la scuola normale ha avuto 12 progetti finanziati, ha avuto due dipartimenti di eccellenza finanziati su due presentati e in ambito europeo ha avuto finora 10 progetti IRC finanziati. Venendo un po' alle linee di indirizzo, una prima linea di indirizzo che vorrei evidenziare, che sto cercando da subito di attivare, di implementare, è quella volta a dare maggiore autonomia rispetto al passato alle tre classi accademiche. La loro governance, per la quale ringrazio i tre presidi, garantisce linee di sviluppo scientifico di sicuro valore. Sempre a proposito di autonomia, ribadisco che al segretario generale deve competere l'importante funzione gestionale amministrativa, mentre al direttore e agli altri organi spetta l'indirizzo politico. Questi due compiti, che sono ugualmente cruciali per la vita dell'istituzione, devono essere svolti con completa condivisione, ma in piena indipendenza. Naturalmente siamo tutti consapevoli della difficoltà nella pratica di conciliare questi due principi, ma nei primi mesi di mandato con il dottor Tomassin abbiamo, credo con un certo successo, cercato di attenerci rigorosamente a questi principi e lo ringrazio molto per questo. Vorrei ora evidenziare alcuni importanti processi in corso, implicitamente già presenti nel mio programma di mandato. Al primo posto vorrei mettere la nuova inaugurazione, la nuova configurazione, scusate, dell'istituto Ciampi a Firenze, che si avvia ad essere, alla luce della revisione di statuto recentemente approvata nel Consiglio di Amministrazione federato, l'unico centro di ricerca interclasse della scuola, sia per temi di ricerca che per gestione, e non più una classe accademica. In questo ambito di ripensamento un po' delle strutture di ricerca abbiamo anche previsto appunto una riorganizzazione di centri e laboratori che sicuramente determinerà una migliore allocazione e un'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali che abbiamo a disposizione. Al momento alla scuola abbiamo attivi tre laboratori per la classe di scienze, il laboratorio di nanoscienze e nanotecnologie NEST, il laboratorio di biologia Bio e SNS e il laboratorio di strategie multidisciplinari applicate alla ricerca e alla tecnologia SMART. Poi abbiamo due laboratori per la classe di lettere, il laboratorio di documentazione storico-artistica DOGSTAR e il laboratorio di archeologia SAET e una ventina di gruppi e centri di ricerca non strutturati come laboratori che operano i settori disciplinari di interesse delle tre classi accademiche. Al secondo posto tra le linee di indirizzo vorrei mettere, come poi è stato ricordato anche dall'allieva, una maggiore cura di tutti i processi legati alla didattica. Ho già detto di alcuni importanti accordi in materia di didattica siglati con le altre istituzioni pisane. Vorrei qui soffermarmi su altri due punti che mi stanno molto a cuore. In primo luogo stiamo rafforzando il tutorato. Come diceva già un grande normalista, Arnaldo Momigliano, il più grande apporto alla formazione dei normalisti viene dai normalisti stessi. Il metodo didattico della scuola, consolidato da decenni, prevede un'interazione costante e diretta non solo tra docenti e allievi, ma anche tra allievi di tutta l'età. La ricerca è una tecnica, talvolta un'arte, e come tale necessita anzitutto dell'acquisizione di strumenti di lavoro, di un metodo rigoroso e magari di qualche trucco del mestiere. Appunto per tutto questo non c'è modo migliore per formare giovani ricercatori se non attraverso altri giovani ricercatori. La peer education, come si chiama, è un punto di forza della normale e intendiamo rafforzarla dando ai nostri allievi più giovani la possibilità di seguire le orme dei loro compagni più grandi e ai nostri allievi più anziani la possibilità di fare prime e importanti esperienze di insegnamento. Sempre in questo ambito mi piace sottolineare l'importanza del servizio di supporto psicologico agli allievi. Lavorando proprio insieme ai nostri studenti da quest'anno abbiamo deciso di affigare il servizio a figure professionali che presentino un progetto attento al contesto che è molto specifico in cui andranno a operare. Infine, diciamo, l'ultimo aspetto che riguarda la didattica che vorrei sottolineare, il progetto di renderla complessivamente più trasparente all'esterno, rimuovendo il più possibile gli ostacoli al riperimento dei materiali dei nostri corsi interni da parte di chi appunto vorrebbe consultarli o farne uso. Tornando un po' alle linee strategiche, un altro dei problemi che in parte abbiamo già affrontato è quello delle carriere del personale docente di ricerca e del dimensionamento ottimale della scuola. Stiamo sperimentando vincoli sempre maggiori alle nostre capacità di assunzione, che non sono determinate in realtà dalla disponibilità di punti organico, questo non è un indicatore significativo per noi, ma piuttosto da vincoli di bilancio. Dobbiamo puntare su una politica molto prudente di nuove assunzioni che usi al massimo fondi di natura premiale, come quelli ad esempio dei due dipartimenti di eccellenza e finanziamenti non ministeriali. Al tempo stesso la crescita della scuola dovrà avvenire attraverso l'aumento delle collaborazioni scientifiche, nelle quali la scuola può portare valore aggiunto, più che da un ulteriore aumento dell'organico, che alla fine inevitabilmente ne sconvolgerebbe la natura. Un altro punto che mi sta molto a cuore riguarda la valorizzazione dei nostri ex allievi. Questa è un'idea persino banale, una strada che molti altri altri nei hanno peraltro già battuto, certamente non arriviamo per primi. Noi della normale abbiamo avviato nel passato vari contatti con ex allievi, anche come è stato ricordato da Roberto Cerreto con l'aiuto dell'associazione Normalisti, ma in modo sporadico e forse senza sufficiente convinzione. La scuola per troppo tempo ha considerato qualsiasi percorso avvenissi al di fuori del perimetro accademico come di secondaria importanza e ha scommesso troppo poco su una formazione più ampia dei suoi allievi e sulla creazione di occasioni più numerose di confronto con il mondo del lavoro. La scuola deve innanzitutto offrire ai suoi allievi tutto il supporto possibile per concepire e avviare una carriera anche al di fuori del mondo delle università e della ricerca. Investire sugli allievi è da sempre nostro punto qualificante e non dobbiamo avere paura di farlo in misura maggiore. D'altro canto, e questo è un punto cui tengo molto, una rete più vasta ed efficiente di Normalisti al lavoro ha delle ricordute positive non solo sui singoli ma anche sull'istituzione stessa che li ha formati. Anche in questo forse la scuola ha avuto la percezione troppo ottimistica che il suo prestigio e il suo valore fossero una realtà acquisita e che quindi non ci fosse alcuna necessità di monitorare o documentare alcunché. Ma in questi tempi, come dire, molto fluidi, tutto questo non si può dare per scontato. Quindi dobbiamo riannodare con più decisioni i fili con i nostri ex allievi per mostrare attraverso le loro carriere e le loro esperienze qual è la natura e quali sono i valori che la scuola impartisce e qual è il valore che è in grado di giocare nella formazione dei giovani di maggior talento del paese e non solo. Ecco, in questa occasione pubblica mi pare bello raccontare qualche storia selezionata dei nostri allievi e delle nostre allieve. Vedrete, abbiamo scelto un po' dividendo per aree scientifiche 12 storie. Sono molto diverse tra loro, sia alcune in ambito accademico, altre in ambito non accademico. Alcuni allievi hanno frequentato solo il corso ordinario, altri solo il corso di dottorato, altri hanno frequentato entrambi. Ed è interessante vedere, penso che uno dei modi migliori di rappresentare la scuola è proprio di procedere attraverso questi esempi. Allora, procedendo in ordine alfabetico, la prima allieva è Huda Alsai. Lei è molto giovane, questo è legato al fatto che il Dipartimento anche di Scienze Politiche è giovane alla scuola. Quindi abbiamo scelto un'allieva che ha discusso le tesi di dottorato da poco tempo e tuttavia è già impiegata alla FAO. Quindi ha studiato la scuola proveniente dal Bahrain, ha studiato la scuola tra il 2014 e il 2019. Bene, passiamo al secondo esempio. Ecco, il secondo esempio è Teresa Davoli, nell'ambito della biologia. Lei è stata studente solo del corso ordinario e ora è Assistant Professor alla New York School of Medicine. Il terzo esempio viene dalla matematica. Camillo Dell'Ellis invece ha percorso la scuola tutto, corso ordinario, dottorato. Da quest'anno è professore all'Institute for Advanced Studies di Princeton, dopo una carriera praticamente tutta all'estero. Il quarto esempio è Roberto Di Cosmo. Roberto Di Cosmo è stato studente di informatica a Pisa, poi ha studiato a Pisa, è stato studente di informatica a Pisa e ovviamente alla scuola normale, poi invece è stato studente del corso di dottorato in informatica all'Università di Pisa e ha avuto una carriera molto brillante in Francia ed è l'inventore, o se volete il propositore, di questo importante progetto sponsorizzato dall'UNESCO legato alla preservazione del software, che è stato tra l'altro anche presentato a Pisa qualche giorno fa in occasione dell'Internet Festival. Bene, possiamo andare avanti con Francesco Evangelista, chimica, corso ordinario alla scuola normale tra il 1999 e il 2004, ora è Assistant Professor alla Emory University di Atlanta e ha vinto due anni fa una prestigiosissima medaglia, la Dirac Medal riservata a ricercatori under 40. Un altro esempio, Serena Ferente, storia, corso ordinario dal 1997 al 2001, lecturer al King's College. Clara Paschini, storia dell'arte, studentessa della scuola tra il 2004 e il 2009, ecco qui c'è stato un percorso appunto non accademico e ora Strategy Manager alla Casa d'Asta Cristi. Abbiamo poi Vittorio Pellegrini, anche qui un percorso solo in parte accademico, laurea a Pisa, dottorato alla scuola in fisica tra il 1993 e il 1997, dirige ora un importante laboratorio sul grafene all'IT di Genova. Abbiamo poi qui Lucia Prauscello, lettere classiche, percorso completo alla scuola ordinario e dottorato e ora è Senior Research Fellow a Oxford, all'Università di Oxford. Abbiamo poi Eugenio Refini, italianistica, ora che è qui un percorso completo alla scuola, ora Assistant Professor alla New York University. Poi Riccardo Strubbino, studente di filosofia, questo è un percorso estremamente interessante perché ha avuto varie esperienze anche di internato alla Deutsche Bank, alla Bayer, alla Hewlett Packard e poi forse il richiamo dell'Università Prevalso, per cui ora è alla Tufts University. Infine abbiamo Maria Antonietta Toskes, neurobiologia, anche lei corso ordinario alla scuola e naturalmente all'Università di Pisa e ora Assistant Professor alla Columbia University. Parlare delle capacità dei normalisti di incidere nel mondo di oggi è anche un modo di contrastare o almeno affiancare la monotona o monocorde, se volete, narrativa dell'Università basata solo sui ranking, che pur non penalizzando la scuola, ad esempio noi potremmo dire che nello Shanghai rating pro capite risulteremmo primi in Italia, terzi in Europa, ottavi al mondo, però questi ranking dal mio punto di vista sono spesso utili più per evidenziare qualche trend di miglioramento e peggioramento che per i valori assoluti che esprimono. La prova di questi limiti secondo me sono intanto le differenze a volte enormi tra un ranking e un altro, a volte le grandi oscillazioni che a volte vediamo di uno stesso Ateneo nell'ambito di uno stesso ranking tra un anno e il successivo. Io credo che la buona salute di un Ateneo, in particolar modo di uno così particolare come la scuola normale, si deve misurare anche attraverso molti altri parametri, ad esempio la volontà e la capacità di incidere sul proprio contesto. Questa è ormai diventata anche ufficialmente la terza missione dell'Università, non soltanto a formare le nuove generazioni e far avanzare le nostre conoscenze, ma a condividere i nostri strumenti formativi con una platea più vasta di cittadini e cittadine. L'Università deve arricchire il proprio contesto non solo con applicazioni e brevetti, ma con conoscenze e valori. In tempi in cui domina la tentazione di semplificare, la nostra missione deve essere difendere la complessità, diffondere strumenti efficaci per capire al di sotto della superficie. In questo la normale e orgogliosamente all'avanguardia, con un programma di disseminazione scientifica molto articolato e intenso, al quale peraltro molti dei presenti hanno partecipato, dalla musica al teatro, dalla letteratura alle scienze, sperimentiamo costantemente nuovi linguaggi per arrivare a sempre più persone. In questa occasione mi vorrei ricordare in particolare due esperienze che hanno entrambe a che fare con la scuola. La prima riguarda la formazione degli insegnanti di scuole primarie e secondarie. In collaborazione con l'Accademia degli Incei, che approfitto in questa sede per ringraziare, la normale tiene per molti mesi all'anno corsi di aggiornamento gratuiti che sono integralmente ripresi e condivisi, sempre gratuitamente, sulla rete. Si tratta di uno sforzo organizzativo e scientifico non da poco, che la scuola si assume volentieri, fedele non solo al suo compito originario di formare i formatori, ma anche al suo compito di istituzione pubblica. E sono lieto di annunciare che abbiamo in programma per il prossimo anno un'espansione di questa attività. La seconda iniziativa è invece più piccola e più giovane. Seguendo la proposta di alcuni allievi, abbiamo voluto tentare un esperimento, affiancando alcuni studenti a forte rischio di dispersione, provenienti dall'Ipsi a Pacinotti di Pontedera, affiancando appunto alcuni di questi studenti con alcuni dei nostri studenti. Naturalmente non si vuole fornire modelli positivi, banalmente modelli positivi cui ispirarsi, ma giusto aprire un dialogo vero tra due dimensioni che non si conoscono, a partire dalla cultura. Il dialogo tra normalisti e allievi dell'Ipsia, infatti, passa attraverso la letteratura. Il gruppo misto Scuola Normale Pacinotti si ritrova periodicamente per leggere e commentare insieme la Divina Commedia. I risultati sono sorprendenti e spettacolari. La letteratura, persino quella più difficile, è diventata un ponte, un canale per parlare di sé e costruire dialogo e amicizia. La Divina Commedia, letta con i normalisti, è diventata così per i ragazzi e le ragazze del Pacinotti, il progetto per l'esame di maturità, un progetto che li impegnerà per tutto il triennio, arrivando a compimento proprio nel settimo centenario della morte di Lante. Come vedete, le cose da fare sono molte e alcune pongono sfide complesse. Nello sviluppo di questi processi ci sarà anche di grande aiuto il nuovo Advisory Board, che recentemente è stato costituito, e qui trovate appunto una slide, la cui prima riunione è prevista entro quest'anno. Bene, quindi questa slide si può anche forse lasciare. Va bene. Avviandomi verso la chiusura, vorrei ringraziare il Vice Direttore, Andrea Giardina, che tra pochi giorni concluderà il suo servizio alla scuola. Andrea è arrivato alla scuola pochi anni fa, ma è stato fondamentale in questi anni. La lealtà e la grazia con cui ha svolto il suo mandato anche di Direttore Facente Funzioni sono state una lezione per tutti noi. Auguri al nuovo Vice Direttore, Mario Piazza, per il compito che sta per intraprendere e sono sicuro che saprà portarlo a compimento nel modo migliore. Un ringraziamento particolare va alla squadra dei prolettori e delegati, Chiara Cappelli, Angelo Vistoli, Augusto Sagnotti, Mario Pianta, Francesco Benigno. Oltre al Segretario Generale vorrei infine ringraziare tutto il personale tecnico-amministrativo della Normale, che con il suo lavoro quotidiano mette tutti noi, docenti, ricercatori e allievi, nella condizione di dare il meglio. Bene, ora concludo veramente con l'auspicio di poter gestire al meglio le responsabilità che abbiamo verso le speranze di tutti questi ragazzi che sono alla scuola, come è stato ricordato qualcuno appena arrivato, e di tutti quelli che verranno. Grazie. Bene, ora è un piacere dare la parola alla senatrice Elena Cattaneo che ci tirò la sua conferenza. Grazie. Grazie alla Scuola Normale, grazie direttore per questo invito e a voi presenti per l'attenzione di cui mi vorrete onorare. grazie anche agli studenti e anche a Ottavia, Ottavia Casagrande per la forza delle sue parole, per l'ottimismo giusto, e anche per aver citato una parola che mi sta molto a cuore, la passione. È la passione il vero motore dell'avventura della conoscenza. e sono davvero felice di avere l'opportunità di parlare di questo oggetto, di questa avventura che ci accomuna tutti. vorrei farlo partendo, facendovi ascoltare, se riesco, un suono. bellissimo questo suono. Non è il battito cardiaco. Questa è la prima osservazione della storia dell'umanità di un'onda gravitazionale proveniente da due buchi neri che si fondevano tra loro 1,3 miliardi di anni luce dalla Terra. E se uno va a vedere, ma cos'è un anno luce? Un anno luce corrisponde a 9.000 miliardi di chilometri. e questi buchi si stavano fondendo a 1,3 miliardi di anni luce dalla Terra. Nel fondersi creavano quest'onda che è una forma di radiazione al cui passaggio la distanza tra punti nello spazio si contraggono e espandono ritmicamente come un moto ondoso arrivando fino a noi. Io trovo questo suono la cattura dell'onda una cosa meravigliosa ed è meravigliosa non solo perché conferma una teoria prospettata 100 anni fa ma per me è meravigliosa perché significa che c'erano persone lì pronte a catturarla che c'erano persone che si erano cimentate intellettualmente con il loro ingegno con le loro capacità tante persone che si erano organizzate pensando che prima o poi un'onda sarebbe arrivata senza avere nessuna garanzia che ciò si sarebbe verificato. Io trovo questo meraviglioso il coraggio di affrontare qualcosa che nessuno aveva mai affrontato prima appunto senza garanzie il coraggio di immaginarsi pronti di studiare la forza di riprendersi dopo ogni fallimento chissà quante volte avranno fallito nei loro calcoli nelle loro immaginazioni quante volte invece hanno ricominciato e quando dico hanno chi sono queste persone sono i nostri allievi i vostri allievi gli studiosi dentro e fuori di qui fisici astrofisici ingegneri il personale tecnico amministrativo gli stati che si sono messi d'accordo per cercare di catturare quest'onda insieme non la catturi da sola nella scienza non vai da nessuna parte da solo ed ecco quindi che tutte queste persone erano lì non hanno mai abbandonato quella teoria appunto hanno costruito qualcosa anche no per catturare quell'onda non è un retino non catturi quell'onda gravitazionale con un retino da pesca ecco che ti devi immaginare l'enormità delle tecnologie per riuscire a consegnare al mondo quell'onda qualora fosse giunta sulle nostre scrivanie e che cosa hanno costruito e mi impressiona anche questa costruzione anche poco lontano da qui no devi immaginarti quindi non solo le idee quindi non solo lo sforzo intellettuale ma anche quello tecnologico questi interferometri ma che cosa straordinaria che sono con questi bracci lunghi tre chilometri no e come hanno fatto a progettarli nessuno l'aveva mai progettato prima come hanno fatto a capire come doveva essere costruito quell'interferometro a me affascina questo dell'avventura della conoscenza ancora di più del risultato che ci consegna proprio perché la scienza è molto di più dei risultati che produce quest'escalation nel coraggio di sfidare l'ignoto che davvero ogni volta ho l'impressione che faccia salire di un gradino l'umanità nella consapevolezza di quel che può raggiungere guardate che non ci si ferma mai quando hanno costruito i primi interferometri ce n'erano due e stavano sulle sponde dell'oceano atlantico una a Washington lo vedete qui l'altro in Louisiana e vedete laddove c'era un'onda che partiva riuscivano a immaginare l'area del cielo noi siamo una briciola quell'area enorme da cui quell'onda poteva arrivare ma era imprecisa la misurazione cosa si inventano e costruiscono un altro di interferometro qui appunto alle porte di Pisa e quindi lì di nuovo noi nostri studiosi tanti italiani che lavorano con studiosi di tutto il mondo pensate convincere i governi che questa cosa si doveva fare è meravigliosa no? quante quanta forza devi avere per realizzare tutto ciò senza poter garantire nulla a nessuno questo guardate è il fascino per me penso per tutti noi questa è la scienza serve a precisare le domande a puntare l'obiettivo verso qualcosa di ignoto e di difficile di mai tentato prima a sviluppare il coraggio di restare in quel deserto della non conoscenza dove nessuno al mondo si era mai avventurato prima e cercare la strada la risposta lo sappiamo si cerca formulando un'ipotesi razionale un'idea di cui ci si innamorerà noi ci innamoriamo delle nostre idee e poi crudelmente e ferocemente dobbiamo andare nei nostri laboratori e mettere a dura prova giusto quell'idea di cui ci siamo innamorati e quindi realizzare con le nostre mani chili di esperimenti senza lasciare mai nulla di intentato per vedere quanto vale quell'idea sapete a volte è successo qualche volta stando in Parlamento che qualcuno devo dire molto pochi ogni tanto si alzasse e mi accusasse di parlare come se la scienza fosse tutta la verità e io non l'ho mai pensato che la scienza fosse tutta la verità non ha bisogno di esserlo no? perché è solamente un metodo io penso il migliore che abbiamo per studiare ciò che è utile sapere e saper fare per poi spiegare includere preparare prepararci tramandare con parole nuove tante ancora da immaginare e le avventure della conoscenza davvero lo sappiamo toccano ogni ambito disciplinare pensate che ci sono degli studiosi che passano la loro vita a capire l'organizzazione sociale delle formiche è straordinaria questa cosa a volte un po' il timore che nel nostro paese qualora qualcuno appunto presentasse un progetto di ricerca di questo genere magari venisse possa essere vissuto con sufficienza quasi come se non fosse importante beh pensate questa è una scoperta straordinaria di questi ricercatori delle PFL di Lausanna pubblicato su Science qualche anno fa non solo gli viene in mente di studiare l'organizzazione sociale della formiche ma poi appunto la scienza adesso che hai questa brillante idea di voler studiare quest'organizzazione ti impone di cercare il metodo per dar risposta alla domanda com'è l'organizzazione sociale delle formiche e il metodo che si inventano questi ricercatori e tanti altri è fenomenale deve essere un metodo è un insieme di procedure e di oggetti che messi in mani esperte quindi in altre mani deve riprodurre il dato ottenuto quindi questo è il metodo non è una lista a caso di azioni e che metodo si inventano ma lo vedete qui mettono questa specie questa piccola prendono 200 formiche e poi mettono sul dorso di queste formiche e li vorrei vedere veramente come hanno legato sul dorso di queste formiche questa specie di targhettina su ciascuna formica come se fosse un GPS per poi tracciare i loro comportamenti le loro posizioni davvero vorrei vedere allacciare questa targa appunto sul dorso delle formiche poi li hanno studiati per 41 giorni hanno sviluppato dei metodi dei software per capire vedete qua sono le formiche ognuno con la sua targhettina per capire insomma come si comportano com'è sta organizzazione sociale delle formiche beh insomma scoprono questo lo si sapeva che esistono tre strati sociali nelle formiche io ho sempre guardato alle formiche come vabbè c'è un buco ci sono dentro formiche invece sono fenomenali tre strati sociali e questi sono ci sono le formiche infermiere ci sono le formiche addette alle pulizie e ci sono le formiche foraggiatrici quelle che vanno a procurare il cibo ebbene si passa da uno strato sociale all'altro pensate questo è quello che scoprono in base all'età ecco che quelle più giovani sono quelle che puliscono quelle meno giovani sono le infermiere quelle più adulte appunto sono invece le foraggiatrici quindi quelle che vanno in giro e controllano un po' com'è lo stato del nido e non solo si inventano di studiare l'organizzazione sociale delle formiche pubblicato su science poi insomma da queste cose si desumono anche tanti suggerimenti per esempio su metodi di cablaggio delle gallerie mi dicevano perché insomma ci sono delle informazioni da questi studi che poi hanno delle applicazioni inaspettate non solo studiano l'organizzazione sociale delle formiche ma ce ne sono pure altri quindi non è solo un gruppo ma insomma il mondo è pieno di persone di ricercatori interessanti questi invece si chiedono ma come ritrovano ogni volta il nido quindi si interrogano le formiche del deserto escono dal loro nido vanno in giro come fanno a sera a tornare allora ecco che ci sono le teorie c'è una teoria che dice contano i passi meravigliosa poi pensate a un metodo per dar solidità a questa teoria poi un'altra teoria che dice no usano degli stimoli visivi qui insomma fanno un esperimento non ho tempo di raccontarvelo ma scoprono che in realtà il campo visivo ha molto più peso nel ritrovare casa a sera del contapassi e non solo questo ma si organizzano pure i ricercatori e beh in questo siamo davvero bravi per fortunatamente per unire le forze e raggiungere gli obiettivi insieme creano queste alleanze mondiali per studiare il genoma delle formiche guardate che le formiche io pensavo fossero una specie sono 15.000 specie diverse che hanno una loro geometria una loro matematica dei loro comportamenti sociali hanno un loro genoma e quindi ecco che c'è questa alleanza per studiare pensate gli elementi genici che regolano il comportamento sociale delle formiche ecco questo io quando leggo questi studi dico vabbè insomma abbiamo davvero un grande futuro davanti ma ci sono anche quelli che studiano le cose grosse qui siamo su Giove e questi ricercatori ecco che nel 2018 pubblicano questi quattro meravigliosi articoli loro si preoccupano dei cicloni su Giove e io che ovviamente non ho nessuna competenza davvero li ringrazio loro come tutti gli altri miei colleghi perché studiano le cose che io non capirò mai e che non saprò mai se non fosse per la loro competenza pensate che pubblicano questi quattro articoli guardate che qui c'è uno studio made in Italy e la copertina di Nature riprende lo studio fatto in Italia all'INA fa Roma all'Asia Roma Università di Bologna CNR di Bologna e Roma con queste immagini che va sulla quindi va in tutto il mondo questa immagine ripresa da questo rivelatore Giram prodotto da Leonardo per Asi non solo quindi le formiche la fisica e l'astrofisica ma insomma possiamo andare anche alla biologia e ogni volta a me veramente mi colpisce sapete che questo è stato tristemente il paese di stamina ebbene questo è anche il paese che vanta la prima terapia al mondo a base di cellule staminali per la cura di questa malattia l'epidermolisi bollosa è made in Italy il primo prodotto a cui si è giunti dopo 20 anni di ricerche ecco qui siamo all'Università di Modena e Reggio Emilia Michele De Luca e Graziella Pellegrini non solo scoprono questa è una malattia della pelle dove c'è un gene del collagene mutato quello che succede quando c'è questa mutazione è che ahimè la pelle si scolla e quindi ecco che ci sono infezioni pustole continue bisogna continuamente medicare queste povere persone molti di loro sono bambini non solo Michele De Luca scoprono le staminali della pelle e ne producono tante in laboratorio ma riescono anche a correggerle geneticamente quindi riescono a correggere quel gene mutato del collagene per cui ecco che si possono rimpiantare dei foglietti li vedete qui di pelle geneticamente corretta costruite in laboratorio e rifare la pelle delle persone con questa malattia e questa cosa è stata così fenomenale adesso qui c'è un'immagine un po' forte che vorrei vedere che alcuni anni fa si è presentato alle porte appunto di Michele della nostra di una nostra università questo caso drammatico di Hassan un rifugiato un bambino un rifugiato siriano rifugiato in Germania colpito da epidermiolisi bollosa era in coma ovviamente il bambino stava in Germania e i loro genitori insieme ai chirurghi si affacciano alla porta di Michele De Luca e Graziella Pellegrini vi faccio vedere un'immagine un po' dura era l'immagine sulla pubblicazione scientifica questo era Hassan destinato ovviamente a un esito fatale l'80% della pelle distrutta non aveva più pelle era in coma farmacologico da 4 mesi ecco che vanno da Michele De Luca e gli chiedono se c'è qualche speranza e Michele De Luca e Graziella Pellegrini quindi si precipitano in Germania prendono un piccolissimo pochi millimetri potete immaginare non aveva più pelle di pelle intatta di questo bambino ma è vero è una pelle intatta ma che ha quel gene malato quindi è una pelle quella lì destinata a far lo stesso corso del resto della pelle lo portano a Modena e straggono le staminali da quel piccolissimo lembo di pelle sapete quante staminali hanno trovato era un frammentino mi sembra sono partiti da 8 milioni di staminali li hanno cresciute in laboratorio hanno corretto geneticamente quel gene interrotto e hanno cominciato a costruire questi lembi e hanno rifatto l'80% della pelle hanno ricostruito la pelle di un bambino di 14 anni che adesso è così vive gioca va a scuola ed è una storia davvero di una conquista italiana ma possiamo guardare anche alla Sardegna perché è davvero una disseminazione di valore di idee di quelle passioni di cui parlava Ottavia anche in Sardegna abbiamo penso davvero gli esperti di genomica più straordinari esistenti al mondo io non ho mai visto un laboratorio di ricerca pubblicare tre articoli di altissimo livello su una rivista come Nature uno dopo l'altro ecco questo gruppo diretto da Francesco Cucca fa queste scoperte straordinarie sono così tante che le mettono in tre articoli e tutti e tre quindi c'è questo numero del 2015 settembre di 2015 con tre articoli sulla genomica sui genomi dei sardi dai quali tra l'altro indagando i quali prendono 2000 genomi sardi li studiano è difficile studiare il genoma sono tre miliardi di lettere ciascuno moltiplicate per 2000 pensate che capacità di studio ovviamente la ricerca oggi ha e cosa scoprono confrontandoli l'uno con l'altro tante cose scoprono ma se volete una curiosità però interessante scoprono una lettera diversa in alcuni di quei genomi in un particolare recettore dell'ormone della crescita che rende conto della riduzione di sei centimetri della statura di una parte della popolazione sarda quindi ci possiamo e non solo e con questa scoperta quella variante che era definita come pericolosa perché era così particolare era già stata mappata quella variante che nel mondo veniva associata a pericolo in realtà viene associata con la fisiologia quindi pensate questo risultato di questi colleghi come ha anche influenzato le conoscenze nel mondo ma io parlo di scienze ma potremmo dire la stessa cosa per l'ambito umanistico mi è capitato di ascoltare una meravigliosa lezione di Silvia Ferrara appassionata non di buchi neri non di genoma ma di scritture antiche quelle scritture che non sono ancora state decifrate lei studia il ciprominoico so che si studia anche qui ci sono alcuni gruppi che la studiano ma la studia ormai si studiano quindi c'è questa cross contaminazione continua si studiano ovviamente anche con i metodi della scienza perché ci sono tutta una serie di tecnologie che appunto ormai cross fertilizzano le discipline eccole quindi le nostre storie di scienza storie di saperi dei giorni nostri ma che hanno forti radici nel passato insomma il nostro paese ha un passato carico di studiosi pieno di studiosi straordinario come non citare la scuola italiana di fisica la tradizione italiana della chimica tra scienza di base e innovazione la tradizione italiana della ricerca genetica quella dell'istologia dell'ematologia della biologia cellulare fortissima la tradizione italiana nelle neuroscienze come non citare Rita Levi Montalcini e questo meraviglioso messaggio che ci ha voluto lasciare insieme a tanti altri che dice che le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di dimostrare nulla se non la loro intelligenza ecco cosa produce l'avventura della conoscenza in una parola per me la libertà la libertà di indagare l'ignoto di rispettare le evidenze di rifiutare le menzogne di resistere ai compromessi di essere utili gli uni agli altri di essere utili al proprio paese la libertà è una parola grossa è una parola importante io ho sempre l'impressione che via via che la giornata passa qualcuno mi stia rubando me ne stia portando via un pezzo e allora quando arrivo a fine giornata mi rimbocco le maniche perché so che me la devo riconquistare sono forti le parole di Barack Obama nel descrivere la libertà dell'avventura la libertà della conoscenza in occasione di questo discorso nel 2013 lui disse come possiamo assicurarci che in ogni campo del sapere stiamo finanziando l'idea che non è subordinata alla politica che non si è deviati da un'agenda estranea come possiamo essere sicuri che andiamo dove ci portano le prove perché questa è la ragione per cui noi investiamo nella scienza la libertà ovviamente non viene da sola viene per tutti noi con una forte responsabilità pubblica che ci lega a quel mandato che abbiamo ricevuto dai cittadini di studiare per loro ma questo mandato sigla anche un impegno tacito ma non negoziabile ad essere sempre sinceri a riportare le cose che scopriamo esattamente come le scopriamo a presentare i fatti anche quando sono contrari ai nostri desiderata e a mettere in atto ogni comportamento anche fuori dalle nostre università aderenti a quel metodo affinché si aprano gli spazi di libertà per tutti per ogni idea affinché sia messa a confronto nel pieno diritto ad essere considerata e valutata formiche incluso è così che la scienza diventa una risorsa per il cittadino e guardate che c'è un risultato tangibile che tutti noi possiamo vantare di questa libertà e responsabilità pensate come era la nostra storia un bel po' di anni fa questa è l'aspettativa di vita un po' di milioni di anni fa quando i primi ominidi sono comparsi sulla terra e vedete l'aspettativa di vita era sempre stata per anni e anni e anni sotto i 30 anni persino quando è comparso insomma l'homo sapiens 200.000 anni fa insomma non è che è cambiato molto no magari questa può suonare come una battuta ma io lo penso veramente mi immagino appunto anni fa due sapiens in una caverna perché stavamo lì fino a 10.000 anni fa stavamo nelle caverne e si parlano e dicono ma come la nostra aria è pulita la nostra acqua è pura facciamo molto esercizio tutto ciò che mangiamo è biologico 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 eppure nessuno riesce a superare i 30 anni di vita ecco io il ritorno al passato proprio non lo auguro a nessuno questo è un passato da cui noi siamo fortunatamente fuggiti quindi è stato così per milioni e milioni di anni anche per 8.000 generazioni di sapiens non sono riusciti a migliorare l'aspettativa di vita umana e poi cosa è successo guardate che sono le ultime quattro generazioni a me viene da dire sono arrivati i nostri bisnonni sono arrivati i nostri nonni nostri genitori tante persone qui in sala e guardate quel picco guardate l'aspettativa di vita nella nostra parte del mondo beh loro ci hanno messo l'ingegno il coraggio hanno disinnescato le paure hanno creato le condizioni per un benessere diffuso hanno bonificato le paludi hanno introdotto la sanitizzazione hanno debellato la malaria è nata la scienza gli antibiotici i vaccini noi oggi entriamo in un ospedale e c'è qualcuno preparato sostenuto dal nostro sistema sanitario nazionale che ci guarda che agisce su di noi è qualcuno che si era preparato questa impostazione ovviamente è il frutto di tutto questo lavoro della medicina della scienza del più cibo per più persone un lavoro che si è contaminato del ragionamento logico deduttivo del pensiero critico delle scienze sociali umianistiche della cultura posso dirlo io sono veramente orgogliosa di essere parte di questa umanità forse però guardando a questa diapositiva e a quel picco uno rischia insomma di farsi trarre un pochettino in inganno quasi quasi appunto ci considerassimo la perfezione come se appunto l'evoluzione abbia indirizzato il suo lavoro per far emergere noi noi oggi con quella aspettativa di vita al punto che scrive Telmo Plevani in questo libro veramente interessante pensate lui dice immaginiamo di incontrare un alieno e se dovessimo presentare a questo alieno le conquiste biologiche della nostra specie probabilmente presenteremmo con vanto il nostro dna che non è quello delle formiche neanche quello della banana il nostro dna è un accrocchio di elementi straordinari che l'evoluzione ha modificato riusato attivato senza mai buttare nulla è una cassetta degli attrezzi pronta per qualsiasi aggiustamento che funziona alla meraviglia quindi bene presentiamo il nostro dna ma presenteremmo sicuramente anche il nostro cervello magari anche con l'errata presunzione di presentarlo come appunto il prodotto perfetto a cui l'evoluzione e questo lungo cammino mirava deve essere per forza perfetto il nostro cervello visto che ci ha portato a quelle cose straordinarie andiamo su Marte guardiamo le formiche catturiamo le onde gravitazionali beh non c'è niente di più sbagliato non è perfetto il nostro cervello prima di tutto perché la natura non ha scopo ma procede per espedienti e poi appunto perché è tutto tranne che perfetto è un cervello che appunto a partire da quelle caverne ha subito una serie di cambiamenti non lineari è andato ingrandendosi quando stavamo in quelle caverne tanto tanto tempo fa quel cervello assolveva a delle funzioni di base quasi emotive era un cervello che doveva garantire soprattutto non so la respirazione lo stare in equilibrio lo scappare qualora appunto in quella savana del Pleistocene del Pleistocene pochi fili d'erba si vedevano muovere ecco che c'era allora l'idea che ci fosse un leone là dietro quindi ecco che questa reazione magari non c'era un leone era solo il vento quindi pensate che questo cervello che partiva da lì da quelle caverne e che è uscito dalle caverne solo diecimila anni fa si è attrezzato di una componente razionale con funzioni linguistiche elaborative molto più recentemente e questi due cervelli che stanno dentro questa scatola buia ma confliggono molto spesso quindi ecco che il nostro cervello è molto più emotivo che razionale posso dire che me ne accorgo anch'io tante volte con i miei comportamenti devo tenerla a bada e quindi quello che ne esce appunto da questo cervello è appunto questo parlamento cerebrale che spesso entra in conflitto tra le parti antiche e quelle e quelle più più recenti al punto che pensate ci sono degli studi è stato quindi dimostrato che quando vediamo un volto di una persona estranea appartenente a popolazioni con fisionomie diverse sapete cosa succede nel nostro cervello è stato misurato con risonanza ma si accende la migdala c'è un segnale di pericolo questo è il retaggio della nostra vita tribale appunto non solo caverne ma anche vita tribale c'era socialità nella tribù ma poi si doveva combattere tutte le altre tribù che erano diverse da noi e tenere a bada questa migdala che si accende così di colpo in quel momento ma pensate anche di fronte a tante altre situazioni ecco per tenere a bada noi dobbiamo attrezzarci della cultura e dobbiamo attrezzarci anche della consapevolezza che il nostro cervello è imperfetto e per fortuna ci viene in aiuto sempre lei Rita Levi Montalcini che scriveva addirittura lei scriveva questo elogio all'imperfezione non ci dobbiamo sentire in colpa tenerlo a bada sì il nostro cervello ma sentirci in colpa lei dice no perché è appunto questo è la nostra meraviglia figlio del gioco capriccioso delle mutazioni del dna instabile per questo più creativo e ambivalente il cervello degli insetti e delle formiche è lì così da milioni di anni è rimasto quello serviva era nato già per assolvere quelle funzioni e invece Rita spiega come il progresso scientifico ed intellettuale nascono proprio nel momento in cui si riconoscono i propri errori si riconosce la propria imperfezione per capirli studiarli ammetterli senza pudore e magari risolverli ecco perché dobbiamo appellarci alla nostra alla propria onestà ammettendo di aver sbagliato quando succede questo davvero è un indice importantissimo di consapevolezza delle proprie capacità Rita parla dell'imperfezione come tappa obbligata per giungere alla meta l'imperfezione lei dice così consona alla natura umana merita perciò un elogio e chiudo con questa quindi se siamo partiti dalle caverne e oggi siamo in questa meravigliosa sede possiamo forse interrogarci con le capacità e le competenze di cui disponiamo e di cui chiediamo agli studenti di attrezzarsi qual è alla fine il nostro ruolo nella società in questa società sempre più straordinaria ma anche sempre più straordinariamente complessa beh forse il nostro ruolo è ben rappresentato da questa immagine questa è un'opera realizzata da un artista messicano che ci dà davvero il peso dell'impatto della cultura dell'impatto di un libro o di una pubblicazione scientifica vedete quel libro là sotto impatta sul muro magari lo farà crollare un muro tra noi o impatta magari sul muro solido delle istituzioni alle quali vogliamo affidarci magari sgretola il muro della non conoscenza creando quell'onda là sopra come un'onda gravitazionale che entra nei nostri pensieri e poi si propaga nello spazio nel tempo e ci mette in condivisione creando questa prima gobba mettendoci veramente a dura prova ecco come davvero possiamo farci aiutare da quel che studiamo ogni giorno per affrontare questa avventura che ci coinvolge tutti che ricomincia ogni giorno ogni anno ad ogni inaugurazione dei saperi che si costruiscono per lasciare un segno nel nostro paese e nella nostra democrazia grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie ali grazie a tutti molto il direttore per questo invito che mi onora, ringrazio tutti i presenti e naturalmente mi sento un po' a disagio dopo l'intervento appassionato perché riprendere il pathos della senatrice e dell'amica Elena Cattaneo non è facile e anzi il mio intervento è impostato su una linea molto diversa non che non sia guidato dalla stessa passione noi ci conosciamo da molti anni siamo dalla stessa università ci frequentavamo prima che lei diventasse senatrice so che la passione ci accomuna ma direi che la sua impostazione appunto così piena di pathos è diversa e forse è irripetibile in ogni caso è diversa dalla mia perché io invece cercherò di dare un'impostazione un po' più critica su una serie di problemi che a mio parere affliggono l'università italiana sto parlando dell'università italiana in generale naturalmente voi siete una felice eccezione da tanti punti di vista perlomeno per molti aspetti ma credo che sia importante anche per voi come per tutti noi interrogarci sul contributo che l'università italiana dovrebbe dare può dare alla crescita economica e all'inclusione sociale beh noi sappiamo che in tutti i paesi avanzati l'università è venuta sempre più ad assumere un ruolo chiave per nei processi di crescita economica le sue funzioni di formazione di capitale umano ad alta qualificazione da un lato e di produzione e circolazione delle conoscenze dall'altro sono considerati cruciali per quella che viene chiamata normalmente economia della conoscenza basata sulla capacità di innovazione e una vera e propria precondizione per quella che viene chiamata un spesso chiamata una via alta allo sviluppo sia i governi sia diversi attori economici e sociali si preoccupano però giusta perciò giustamente dell'efficienza del proprio sistema universitario da cui performance devo dire viene ormai costantemente monitorata e confrontata con quella dei sistemi di istruzione superiore degli altri paesi ma per quanto il ruolo di motore dell'innovazione e della crescita sia diventato cruciale l'idea di università non può esaurirsi in questo la sua storia i valori che incorpora il posto che ha avuto l'università pubblica nella formazione di società aperte democratiche la legano indissolubilmente a una visione di progresso sociale e non solo economico ed è per questo motivo che le università europee lasciate si ormai finalmente faticosamente alle spalle l'antica reputazione di torri d'avorio istituzioni elitarie rinchiuse in se stesse vengono viste anche come canali di mobilità sociale e di produzione di beni pubblici capaci di favorire la coesione sociale a partire dall'agenda di lisbona la cosiddetta agenda di lisbona del 2000 queste convinzioni hanno dato vita del resto a una retorica diffusa che fa però riscontro e su questo si concentrerà il mio intervento con una realtà molto più incerta e contraddittoria in paesi come l'italia anche piuttosto deludente il sistema universitario italiano anche soprattutto per colpe non sue sia ben chiaro ma come vedremo dei vari governi che si sono succeduti e del sistema economico in cui si trova a operare ha infatti mostrato una bassa efficienza nel fornire capitale umano in misura adeguata a favorire una via alta allo sviluppo sto parlando qui come vedremo di quantità non tanto di qualità sia una performance nella ricerca che per quanto buona sia rivelata però insufficiente a innescare rilevanti processi di innovazione economica e a questa scarsa efficienza si è accompagnata io sono un sociologo e quindi non posso non avere una particolare attenzione a questo aspetto si è accompagnata poi una scarsa equità cioè una bassa capacità di inclusione i forti e permanenti divari fra i risultati conseguiti da studenti con diversi background socio economici e formativi testimoniano che l'obiettivo dell'uguaglianza delle opportunità ha funzionato male in italia mentre la crescente polarizzazione tra gli atenei insediati nelle diverse aree del paese non ha favorito la coesione sociale territoriale e credo quindi che il primo passo per far recuperare all'università italiana efficienza nel ruolo cruciale che può svolgere rispetto alla crescita ma al tempo stesso equità nel senso di contribuire a una maggiore inclusione e di favorire la coesione sociale è quello di individuare con chiarezza le cause della sua insufficiente performance infatti mentre c'è una relativa convergenza di vedute sui sintomi molto più vaga e incerta appare la diagnosi è quasi sempre così naturalmente però naturalmente solo da una diagnosi accurata sappiamo e non superficiale delle cause di una performance insoddisfacente possono discendere ricette efficace di policy allora io in questa presentazione prenderò brevemente in esame alcuni capi di accusa per così dire che si possono rivolgere al sistema universitario italiano per quanto riguarda lo svolgimento delle sue due funzioni principali la formazione di capitale umano la didattica cioè la formazione di capitale umano da un lato e la ricerca e circolazione delle conoscenze dall'altro si tratta di capi di accusa piuttosto noti quindi mi sarà anche consentito di andare piuttosto veloce ma sono meno scontate invece le ragioni a cui le cause a cui si possono far risalire questi esiti poco soddisfacenti in termini di efficienza e di equità come vedremo ci sono ragioni che attengono a come strutturate funziona il sistema universitario per scelte sbagliate o non compiute dai governi e dagli atenei stessi e per questo le chiamerò cause interne in questo senso ma ci sono anche cause più ampie che chiamerò cause esterne perché attengono al modello socio economico che governi e imprese hanno perseguito cioè quella che viene spesso definita una via bassa allo sviluppo e una scarsa attenzione alla mobilità sociale che spiegano l'assoluta inadeguatezza delle risorse che vengono destinate al sistema universitario ma anche l'assenza di visione strategica che ha accompagnato le politiche universitarie di questo paese come ho detto cominciamo con la formazione con la prima delle due grandi funzioni dell'università la formazione la didattica qui se lo vogliamo vedere dal punto di vista dell'efficienza rispetto al sistema economico la chiamiamo formazione di capitale umano come ho detto gli indicatori di una bassa efficienza del nostro sistema universitario a favorire una via alta allo sviluppo economico sono numerosi così come lo sono quelli di una scarse equità nelle opportunità di accesso e nella performance formativa e vediamo qui molto brevemente alcuni dati relativi agli indicatori che sono qui elencati vado brevemente perché molti di questi sono piuttosto noti ripeto credo meno note scontate sono le poi le cause primo indicatore è noto che rispetto alle altre economie avanzate l'italia presenta un tasso molto basso di laureati siamo c'è una freccia per indicare dove stiamo subito prima della romania forse meno noto è però il fatto che a questo risultato negativo concorrono forti disuguaglianze sociali in italia la quota di 30 34 anni in possesso di un titolo di studio terziario è oggi pari al 27 8 per cento a fronte di una media del 40 virgola 7 per cento nei paesi dell'unione europea e come ci hanno ricordato di recente sia istat che euro stata che oxe da cui non sono presi questi dati nonostante un aumento dal 2008 al 2017 di 7,7 punti l'italia continua a essere fanerino di coda inoltre e qui è l'aspetto che a mio parere che è meno nota a mio parere quasi più grave i dati ci mostrano forti disuguaglianze sociali nel conseguimento della laurea in italia la percentuale di adulti laureati fra i 25 e 44 anni risulta del 70 per cento cioè più della media oxe addirittura se sono figli di genitori laureati ma precipita al 9 per cento soltanto se i genitori non hanno almeno un titolo di scuola secondaria superiore mentre nella media dei paesi oxe questo è il 23 per cento quindi è fra chi proviene da classi sociali più disagiate che noi facciamo particolarmente male abbiamo particolari carenze seconda cosa abbastanza nota è il che al basso tasso di laureati si accompagnano alti tassi di abbandono e tempi lunghi per il conseguimento del titolo di studio che naturalmente contribuiscono a sua volta al primo fenomeno cioè il basso numero di laureati e anche in questo caso il fenomeno si accentua fortemente nel mezzogiorno e fra chi proviene da istituti tecnici e professionali oltre che fra i giovani nati all'estero qui non potevo mettere tutti i dati ma insomma mi sono il più recente rapporto dell'anvur in realtà ci mostra che gli abbandoni tra il primo e secondo anno nei corsi di laurea triennali sono migliorati nel senso che il tasso di abbandono è calato e ha raggiunto oggi il 12,2 per cento però si tratta di tassi ancora molto elevati in termini comparativi e anche in questo caso e questo è il grafico che ho scelto di mostrare si rilevano forti disuguaglianze fra gli studenti che provengono da diversi percorsi formativi a un estremo abbiamo un tasso di abbandono solo del 7,6 per cento dagli studenti con maturità liceale mentre all'altro un 25,6 per cento dagli studenti provenienti da un istituto professionale quindi il diciamo la provenienza scolastica che poi è in larga misura associata lo sappiamo anche con le condizioni socio economiche della famiglia determina in larga misura non soltanto il quanto si accede all'università ma quanto poi il percorso universitario è efficace o invece non è efficace perché si abbandona e del resto anche per quanto riguarda i tempi per il conseguimento del titolo di studio c'è stato un miglioramento nel tempo qui vedete diverse corti e il miglioramento che c'è stato ma con forti disuguaglianze territoriali oltre che di background formativo qui ho scelto di mostrare le disuguaglianze territoriali ma anche anche tra le provenienze vi posso dire che mentre il 35,4 per cento di chi proviene da un liceo si laurea al termine dei tre anni cioè nelle lauree triennali in diciamo nel tempo normale solo il 18 per cento di chi proviene da un istituto professionale vi riesce questo è invece un indicatore molto meno noto e generalmente trascurato nel dibattito ma a mio parere molto preoccupante della capacità del nostro sistema universitario di contribuire a una knowledge economy e a una knowledge society formando capitale umano ad alta qualificazione cioè il bassissimo numero di dottorandi abbiamo visto che il tasso di laureati in italia è molto basso principalmente perché meno giovani che altrove si iscrivono all'università però all'interno di un numero già così basso di studenti universitari la quota degli iscritti a un corso di dottorato è molto più bassa che in tutti gli altri paesi europei di nuovo qui la freccia indica del resto siamo gli ultimi anche visivamente e questo dipende principalmente dal permanere in italia di una concezione vecchia del dottorato di ricerca come addestramento individuale alla carriera accademica per cui tra l'altro il che tra l'altro spiega perché in genere non ci sono incentivi a docenti ai docenti a impegnarsi nella didattica dottorale mentre negli altri paesi avanzati il dottorato è diventato il livello in cui si formano le figure professionali a più elevata specializzazione anche e soprattutto per il sistema economico e per l'amministrazione bene passiamo alla ricerca qui per quanto riguarda la ricerca la situazione italiana è più complessa e difficile da interpretare perché da un lato l'analisi degli indicatori bibliometrici che ci ha fornito l'ANVUR mostra un sistema della ricerca in buona salute come vedremo fra un momento dall'altro però questo non sembra essersi tradotto in una maggiore visibilità competitività e attrattività internazionale delle nostre università né tantomeno in una loro maggiore capacità di funzionare come motore dell'innovazione trasferendo i risultati della ricerca al sistema economico e anche qui vediamo brevemente alcuni dati relativi agli indicatori che ho indicato queste sono le buone notizie la crescita della produzione scientifica italiana è stata nel decennio in corso superiore alla media mondiale il nostro paese ha visto aumentare la propria quota di produzione mondiale mentre la quota dei paesi europei più importanti Francia, Germania e Regno Unito si andava riducendo e anche in termini di impatto citazionale medio della produzione scientifica la posizione della ricerca italiana è oggi molto buona quindi qui ci sono le buone notizie dove stanno le cattive notizie? le cattive notizie stanno nel fatto che ne vediamo due o tre ma alla prima diciamo iniziano con la bassa competitività e attrattività scientifica a livello internazionale del nostro sistema universitario che è segnalata da molti indicatori i principali indicatori sono i bassi tassi di successo nei programmi di ricerca europei e i flussi di mobilità dei ricercatori che risultano vincitori di rilevanti finanziamenti utilizzabili anche in università diverse da quelle proprie paese io ho scelto qua, per ragioni di tempo naturalmente dovevo scegliere un unico indicatore ho scelto qua appunto quest'ultimo indicatore cioè, diciamo che credo che particolarmente preoccupante sia la difficoltà del sistema della ricerca nazionale a essere attrattivo e a trattenere i migliori talenti come vedete qua, per ogni ricercatore straniero vincitore di un grant ERC con un'istituzione basata in Italia oltre 10 ricercatori italiani sono risultati vincitori attraverso istituzioni straniere in altre parole, molti ricercatori italiani risultano sì competitivi a livello europeo ma scelgono poi di svolgere la loro ricerca in una università straniera mentre è pochissimo vero il contrario cioè pochissimi ricercatori di altri paesi che risultano vincitori sono attratti dall'ambiente scientifico che trovano nelle università italiane lì vedete proprio il saldo, non ho bisogno di commentare il grafico perché credo sia molto chiaro un altro indicatore di scarso riconoscimento dalle università italiane quali poli di eccellenza scientifica in cui svolgere le proprie ricerche è il loro mediocre posizionamento in quei ranking internazionali che in qualche misura si basano su dati relativi alla performance di ricerca allora intendiamoci, io sono totalmente d'accordo con quanto ha detto prima il direttore no, no, totalmente d'accordo e di fatti l'ho anche scritto varie cose non mi voglio citare ma l'ho scritto in tempi non sospetti tutti i ranking sono costruiti con criteri estremamente opinabili si prestano a forti distorsioni e sono stati sottoposti a critiche anche giustamente feroci e inoltre essendo basati su indicatori differenti forniscono risultati spesso molto diversi tra loro quindi ciò nonostante però il fatto che tutti i ranking internazionali mostrino un'assenza pressoché totale di atenei italiani nella top list mondiale può costituire un campanello d'allarme proprio per le ragioni che abbiamo visto nel grafico precedente perché ormai ai ranking si guarda e chi cerca chi vuole essere attrattivo deve stare su altrimenti ricercatori da altri paesi è molto più difficile attrarli come si vede in questa tabella io quello che ho fatto ho preso i sei ranking internazionali più noti fra quelli basati per almeno il 50% su indicatori relativi alla ricerca chi è esperto di queste cose noterà che ho escluso il ranking forse più noto di tutti i QS perché non è basato su indicatori di ricerca anzi solo per il 20% si basa su indicatori della ricerca per il resto è un ranking reputazionale quindi non mi serve ai fini del mio discorso qua gli altri sei ranking si basano almeno per il 50% su indicatori relativi alla ricerca bene voi vedete che un solo Ateneo italiano e non sempre lo stesso questi sono dati del 2018 quindi ci sono state delle variazioni nel 2019 ma non ho fatto tempo a tenerne conto un solo Ateneo italiano e non sempre lo stesso risulta presente tra i primi 100 in tre di questi ranking in nessuno degli altri tre quindi facendo nella prima colonna per comodità una media dei risultati ottenuti dai grandi paesi nei sei ranking ciascuno dei quali dicevo presenta problemi differenti di arbitrarietà di discrezionalità degli indicatori la presenza di Ateneo italiani fra i primi 100 risulta largamente inferiore a quella degli Ateneo inglesi tedeschi e francesi e solo di poco superiore a quella degli Ateneo spagnoli e dicevo prima totalmente d'accordo sul dare noi poca importanza ai ranking ma in uno scenario internazionale sempre più competitivo nel quale molti governi investono fortemente per creare world class universities come si chiamano capaci di attrarre capitale umano e anche fondi di ricerca la sostanziale assenza di università italiane dalla top list per quanto arbitraria sia può costituire un problema che ci piaccia o non ci piaccia non è solo il sintomo di istituzioni che non sono sufficientemente competitive che non vengono riconosciute come eccellenti scientificamente ma soprattutto data la diffusione globale di questi ranking costituisce una causa tra le principali di scarsa attrattività cioè di quello che vedevamo prima infine diversi indicatori sembrano segnalare anche una bassa capacità di valorizzazione economica delle conoscenze da parte dell'università italiane gli indicatori standard più comunemente utilizzati sono il numero di brevetti e di spin off universitari e per entrambi i dati disponibili ci mostrano una performance peggiore di quella degli altri grandi paesi europei con i quali siamo soliti confrontarci bene veniamo adesso alle cause e se sui perché se sui sintomi di una performance insoddisfacente nel formare capitale umano e nel produrre ricerche e diffondere conoscenze esiste un certo consenso del resto i dati sono dati meno scontate come dicevo sono invece le ragioni a cui si possono far risalire questi esiti poco brillanti al di là dell'indubitabile insufficienza di risorse a cui accennerò più avanti che è un punto molto importante ci sono ragioni che attengono a come è strutturata e funziona il nostro sistema universitario per scelte sbagliate o per scelte non fatte dai governi e dagli stessi atenei e per questo le ho chiamate cause interne distinguendole fra quelle che influiscono sul sistema formativo e quelle che invece riguardano la performance di ricerca allora la la prima e secondo me decisiva causa della insoddisfacente performance formativa del nostro sistema universitario cioè i bassi il basso tasso di laureati l'alto tasso di abbandoni la bassa regolarità degli studi eccetera è la pressoché totale assenza nel nostro sistema di un canale di istruzione terziaria professionalizzante in grado di attrarre quegli studenti meno motivati e meno capaci di intraprendere un percorso accademico che abbiamo visto sono spesso quelli che provengono anche da background formativi meno agiati è una carenza che risale agli anni sessanta il disegno di legge gui del 64 prevedeva un canale alternativo ma fu affossato ma è una carenza che distingue il nostro sistema da quello di tutte le altre economie avanzate nel resto d'Europa di fatti la risposta alla massificazione dell'università cioè al forte ampliamento degli accessi all'istruzione superiore iniziata in quel decennio fu innanzitutto quella di creare un canale di istruzione terziaria fortemente professionalizzante accanto a quello tradizionale accademico per i provenienti da classi sociali che possono permettersi di non considerare come prioritario un rapido inserimento nel mercato del lavoro in Francia e in Spagna per esempio questo ruolo venne affidato ai cicli brevi solitamente biennali dentro il sistema universitario mentre in diversi paesi dell'Europa del nord si affermò un sistema di istruzione superiore formalmente binario per cui accanto alle università vennero creati istituti paralleli a stretto contatto col mondo del lavoro capaci quindi di recepire le esigenze di quanti vogliono conseguire un titolo di alto livello ma fuori dai tradizionali percorsi accademici e invece in Italia unico paese si mantenne un canale di accesso unico ma la pressoché totale assenza di percorsi di studi brevi e professionalizzanti riduce come dicevo prima l'attrattività proprio per quegli studenti che vengono da istituti tecnico professionali o che sono già impegnati in attività lavorative e riduce la probabilità di concludere gli studi per gli studenti con percorsi scolastici più deboli negli ultimi anni qualcosa si è mosso in questa direzione con l'istituzione degli ITS in via sperimentale di alcune lauree professionalizzanti cioè corsi di studio triennali che dovrebbero operare in sinergia con gli ordini professionali ma siamo ancora lontanissimi dall'avere anche noi un percorso terziario alternativo a quello universitario e questa ripeto credo che sia una delle cause fondamentali del fatto che soprattutto alcuni chi proviene da certi background finiscono col non iscriversi al sistema terziario o se si iscrivono più facilmente abbandonare eccetera un secondo fattore che contribuisce al divario nell'efficienza e nell'equità delle università italiane rispetto a quelle degli altri paesi è la mancanza nella maggior parte degli atenei pubblici per carità io so che ci sono eccezioni come chiaramente la scuola normale superiore si parlava qui prima il direttore parlava di si è soffermato sulle attività di orientamento sulla peer education che mi sembra una bellissima cosa eccetera ma questo non è comune a tutto il sistema universitario italiano manca un efficace coordinamento con la scuola secondaria mancano forme generalizzate obbligatorie di orientamento all'ingresso e mancano efficienti servizi di supporto al percorso formativo le ricorrenti polemiche sul numero chiuso una soluzione che a mio parere non è auspicabile in Italia in modo generalizzato non solo per ragioni di equità ma anche di efficienza visto che abbiamo così pochi laureati e non aiutano però a mettere fuoco il problema reale della coerenza fra il percorso degli studi secondari e la scelta del corso di laurea fermo restando il principio che il sistema dell'università pubblica deve consentire l'accesso a tutti coloro quelli che desiderano iscriversi sarebbe essenziale una migliore determinazione delle filiere formative in raccordo tra scuola e università vado avanti perché passiamo alla ricerca cioè o meglio alle cause che possono rendere i nostri atenei meno attrattivi e quindi meno competitivi per quanto riguarda la ricerca e la diffusione delle conoscenze anche qui esiste un ampio consenso nel constatare i limiti ma è un consenso che si arresta quando si passa ad analizzare le cause a mio parere anche qui c'è un fattore poco noto come è poco noto il discorso dei dottorandi quello dei percorsi professionalizzanti c'è un fattore poco noto che riveste invece un'importanza cruciale nello spiegare la performance scientifica contraddittoria delle università italiane si tratta della dispersione dei migliori ricercatori di ciascun'area disciplinare fra i vari atenei una dispersione che è molto più elevata che nei paesi con cui ci confrontiamo e che ostacola il formarsi di poli di eccellenza e attrazione internazionale che la qualità scientifica in Italia non sia concentrata in pochi atenei eccellenti ma relativamente diffusa il che può essere considerato anche un bene da vari punti di vista era già stato dimostrato da alcuni studi pionieristici che hanno poi ricevuto ampie conferme dai risultati della VQR ma è questa dispersione dei migliori ricercatori tra le varie sedi che spiega l'assenza pressoché totale come abbiamo visto prima di atenei italiani dalla top list di tutti i ranking internazionali ma se estendiamo invece cosa che è la stessa tabella di prima anche se con una sola colonna ma in cui l'accento cioè la sottolineatura in rosso è emessa diversamente se estendiamo lo sguardo dalle prime 100 alle prime 500 università al mondo secondo i ranking internazionali cioè dagli atenei diciamo pure considerati super eccellenti a quelli che presentano comunque una qualità scientifica molto elevata ricordiamoci che le università nel mondo sono oltre 12.000 quindi comunque i primi 500 sono comunque una qualità molto elevata la situazione cambia profondamente perché gli atenei italiani di qualità scientifica comunque elevata sono quasi il doppio di quelli spagnoli più numerosi di quelli francesi e non così distanti neppure da quelli tedeschi e inglesi considerando che questi paesi hanno un numero maggiore di università cioè insomma la qualità è più spalmata in Italia meno concentrata e questo fa produce gli effetti che abbiamo detto positivi per certi versi negativi per altri versi ultimo infine per quanto riguarda la bassa capacità di circolazione delle conoscenze la causa principale sembra una scarsa istituzionalizzazione nelle università delle attività di terza missione condotte dagli accademici una ricerca una recente ricerca empirica mostra una limitata diffusione tra gli accademici italiani delle attività di brevetazione e creazione di spin off ma il quadro migliora sensibilmente se si considerano invece le attività di ricerca condotte in collaborazione con le imprese quelle su commessa il cosiddetto conto terzi le consulenze il public engagement mentre quello su cui il direttore prima metteva molto l'attenzione come di particolare interesse della scuola normale ma anche di altre università devo dire e tuttavia qual è il punto il punto è che una parte consistente di questa attività avviene attraverso canali individuali per lo più informali per aggirare i costi e i tempi di procedure burocratiche complesse a volte anche per acquisire maggiori benefici economici da parte dei docenti che fanno questa attività e la conseguenza è che una larga parte di queste attività di terza missione esce dalla non viene riconosciuta e quindi non viene valorizzata in quanto tale dagli atenei bene veniamo all'ultimo punto del mio intervento che riguarda le cause esterne all'università cioè il modello socio-economico perseguito cause esterne al di là della struttura del funzionamento del sistema universitario su cui ho dato qualche elemento prima ci sono cause indubbiamente più ampie dei risultati insoddisfacenti cause che hanno a che fare con il modello socio-economico che governi e imprese hanno perseguiti in Italia un modello di crescita non inclusiva che è stato definito da molti economisti una via bassa alla competitività e allo sviluppo via bassa nel senso che è basata su è basato prevalentemente su bassi salari bassa qualità dei prodotti bassa qualificazione della forza lavoro e non quindi su investimenti invece in ed è da questo modello che discendono sia il basso investimento in risorse per la formazione del capitale umano e per la ricerca da parte dei governi sia le scelte delle imprese ed è su queste scelte che mi concentrerò dunque nella parte finale del mio intervento basso investimento pubblico questo è un dato abbastanza noto per quanto riguarda la scarsità di risorse pubbliche in primo luogo dobbiamo ricordare che la spesa per istruzione terziare in Italia è nettamente inferiore in rapporto sia al numero degli studenti sia al PIL questo è in rapporto al PIL ma se guardiamo il rapporto agli studenti nel 2015 la spesa per studente in Italia è stata di 11.500 dollari calcolata in dollari perché l'OX ovviamente calcola tutto in dollari di 11.500 dollari per studente a fronte di oltre 16.000 per la media dei paesi OX e considerando la spesa in rapporto al PIL il divario è ancora più ampio e dal 2008 è ulteriormente cresciuto cioè possiamo addirittura parlare in questo ultimo decennio di una decrescita disinvestimento nell'università italiana durante la grande recessione cioè proprio nel periodo in cui invece la maggior parte dei paesi con cui ci confrontiamo Germania paesi nord eccetera aumentava il proprio investimento dell'istruzione superiore nella ricerca proprio come strumento per contrastare la recessione ciò che è altrettanto grave a mio parere e anche di questo non si parla moltissimo sono le scarse risorse scarsissime risorse destinate al diritto allo studio in Italia che fanno sì di nuovo nell'ottica dell'equità sociale di cui ho parlato fin dall'inizio che chi proviene da famiglie più disagiate non si iscrive all'università o deve cercare di integrare studio e lavoro e quindi con molte maggiori difficoltà oppure abbandona gli studi o ritarda il conseguimento del titolo nel 2017 le risorse destinate al diritto allo studio sono state 616 milioni contro oltre 2 miliardi destinati per questa finalità da Francia e Germania inoltre la quota di studenti in residenze universitarie è estremamente contenuta rispetto ad altri paesi Euro Student la stima in un 2% degli studenti contro il 13% della Francia l'11% della Germania questo tra l'altro è anche un fatto non soltanto che riguarda l'università ma anche che riguarda le capacità di emancipazione dei giovani dalle proprie famiglie e infine non c'è solo un problema di risorse ma anche di eterogeneità tra regioni e tra atenei addirittura all'interno della stessa regione nei requisiti di accesso e nei tempi di erogazione dei benefici e di incertezza circa la permanenza del sostegno da un anno all'altro ed è per tutte queste ragioni che le gravi carenze del diritto allo studio in Italia rappresentano una causa fondamentale secondo me della scarsa efficienza e della scarsa equità con cui le università formano il capitale umano cerco di andare più veloce il terzo luogo possiamo dire che gli investimenti in ricerca e sviluppo in percentuale sul PIL in Italia qui i dati parlano chiaro sono meno della metà che in Germania e nel triennio 2014-2016 c'è stato sì un debole incremento rispetto al triennio precedente ma il nostro dato rimane sostanzialmente invariato cioè rimane sostanzialmente invariato il forte divario esistente rispetto alle altre economie avanzate fin qua sono dati relativamente vabbè forse più più noti questo quello che forse è un po' meno noto è che è la scarsa domanda di utilizzo non che non sia nota la scarsa domanda di utilizzo di capitale umano e dei risultati delle ricerche nella ricerca da parte del sistema economico sono forse un po' meno noti i dati perché il sistema delle imprese in Italia innanzitutto investe molto poco in ricerca e sviluppo la tabella che vedete sulla destra il BERT è la percentuale di ricerca scusate di investimento in ricerca e sviluppo effettuata dal sistema economico dal sistema privato il sistema dell'impresa investe molto poco in ricerca e sviluppo e si affida prevalentemente a meccanismi di innovazione di prodotto e di processo informali e incrementali per la sua competitività meccanismi che potevano rappresentare un fattore di competitività fino alla metà degli anni 90 ma che oggi risultano sempre più inadeguati per competere a livello internazionale il basso investimento in ricerca e sviluppo è collegato al tipo di struttura produttiva italiana che è caratterizzata come tutti sappiamo da imprese piccole e medie che spesso non hanno risorse proprie per fare investimenti in ricerca e sviluppo e quindi sono un tipo di impresa tipicamente poco propensa a investire in strutture formali di laboratorio o in generale a spendere in attività di esplorazione sulle frontiere tecnologiche le piccole imprese hanno meno probabilità di disporre di risorse interne per sostenere i rischi e i costi di progetti innovativi la crisi economica se noi guardiamo adesso la parte sinistra della slide la crisi economica iniziata nel 2008 ha inoltre diviso i paesi europei in due paesi in cui il capitale umano qualificato è diventato nel tempo sempre più strategico per l'economia qui come voi vedete è la percentuale di figure professionali altamente qualificate tecnici e managers professionisti che sono occupati nel sistema economico diciamo il capitale umano più qualificato è diventato nei paesi del nord Europa questo capitale umano è diventato sempre più strategico per l'economia mentre nei paesi del sud Europa il capitale umano qualificato sembra non essere fondamentale nelle strategie competitive delle imprese il risultato è che da una parte un piccolo gruppo di imprese italiane ad alta produttività generalmente di grandi dimensioni fa fatica a trovare le competenze di alto livello di cui avrebbe bisogno specialmente nel settore dell'elettronica software informatica ingegneria nuove tecnologie digitali ma dall'altro un vastissimo numero di imprese di piccole o piccolissime dimensioni conduzione familiare spesso tradizionali e poco innovative è una domanda di competenze estremamente bassa anche la quota di personale impiegata in attività di ricerca e sviluppo è particolarmente bassa in Italia rispetto agli altri paesi avanzati e all'interno questo è un dato ancor più significativo all'interno del personale impiegato in ricerca e sviluppo la quota dei ricercatori propriamente detti cioè quelli definiti come personale coinvolto nell'attività di ricerca al netto di quelli tecnico-amministrativi è pari solo al 48% ed è di molto inferiore alla media europea voi potete vedere che la linea nera è la media OXE e l'Italia che è quella in alto quanto sta al di sotto della media OXE infine mi avvio alla conclusione perché credo di aver preso già tutto il mio tempo un ultimo punto anche questo solitamente meno noto meno discusso è che il sistema produttivo italiano appare poco capace di sollecitare adeguatamente la cooperazione con le università non sempre l'esigenza largamente condivisa di incorporare rapidamente e sistematicamente i risultati dei progressi in campo scientifico riesce a trasformarsi in domanda esplicita di collaborazione da parte delle imprese all'università specialmente quando nelle imprese piccole come nel caso italiano la capacità di individuare specifici problemi di innovazione e di assorbire all'interno le nuove conoscenze è più limitata imprese imprese piccole specializzate in settori tradizionali hanno oggettive difficoltà a dialogare con i ricercatori universitari ecco dunque le mie conclusioni brevissime perché non si potrebbe naturalmente partire qui per una per una nuova per un nuovo intervento forse anche più come dire pieno di patos e pieno di sogni come è stato quello e di elementi positivi come è stato quello della senatrice Cattaneo ma mi fermo qua dicendo invece che la scarsità di risorse da un lato e di domanda da parte del sistema economico dall'altro caratterizzano fortemente il contesto in cui si muove l'università italiana e che quindi un deciso miglioramento da questo punto di vista appare una precondizione senza la quale non è pensabile che il sistema universitario possa contribuire in modo più determinante alla crescita economica e all'inclusione sociale cosa che invece dovrebbe fare il rilancio dell'università in Italia è possibile io credo solo se va di pari passo con un profondo ripensamento del tipo di sviluppo economico e di modello sociale del nostro paese e viceversa e per questo ritengo che la questione universitaria cioè il tema che ho già affrontato della sua efficienza della sua equità non è un tema che riguarda solo noi che lavoriamo nell'università solo chi nell'università ci vive lavora ma è una questione centrale per il futuro del paese grazie interviene interviene adesso il professor Roberto Antonelli professore emerito della sapienza di Roma accademico dei lincei con una relazione su crisi saperi umanistici e filologia dunque vorrei partire da una questione che è a mio avviso centrale che riguarda il passaggio del sistema culturale letterario europeo da una dimensione di elite a una di massa questo in realtà è un problema che non riguarda come sappiamo solo la letteratura ma tutta la storia del novecento io lo affronterò per quanto riguarda i suoi riflessi dal punto di vista culturale e letterario si tratta in realtà più che di un semplice passaggio di una lunga transizione che iniziata con la fine dell'ancien regime e la rivoluzione francese si manifesta in tutta la sua portata e potenza dalla metà del ventesimo del diciannovesimo secolo e caratterizza tutto il ventesimo e ancora il ventunesimo in forma di una lunga e ininterrotta crisi avvolge in profondità non solo la struttura della società ma anche l'immaginario collettivo e tutte le sue espressioni culturali compresi gli specialisti a cominciare dagli intellettuali umanisti finisce il tempo di una società agricola e inizia il dominio di una società industriale e finanziaria quindi uno spazio non più naturale ma artificiale di cui la metropoli e oggi la rete e non più la corte divengono la rappresentazione fisica e lo scenario culturale nuovo ed egemone le masse irrompono non solo sullo scenario politico ma nella fruizione e quindi anche nella produzione culturale e letteraria la fortunata formula ribellione delle masse proposta da Ortega e Gasset nel 29 incorpora in sé e nel conseguente concetto tutto negativo di crisi le ansie che in tutta Europa le classi dirigenti vivono e tentano di capire ed esorcizzare la famosa angoscia espressionista angst individuata da Gianfranco Contini grande docente di questa scuola come sentimento araldico del secolo ne rappresenta esemplarmente una proiezione emblematica gli esempi della fortuna del volume di Ortega potrebbero essere innumerevoli mi limiterò a ricordare un caso particolarmente rilevante e affascinante quello di Thomas Mann in un saggio Actung Europa del 35 in quegli anni 30 decisivi per la storia dell'Europa e della sua cultura umanistica nell'affrontare la crisi della democrazia liberale europea e il privalere di ideologie fondate sullo Stato sul socialismo o sulla grandezza della patria Mann citava proprio il libro di Ortega per respingere la tesi di chi riteneva che la causa del dissesto fosse stata la prima guerra mondiale riassumo l'incredibile declino della cultura e il regresso morale rispetto al XIX secolo non è il prodotto della guerra è un fenomeno secolare caratterizzato innanzitutto dall'emergere e dall'affermarsi dell'uomo massa come ha dimostrato José Ortega e Igasette l'uomo moderno è la vittima è il prodotto di impressioni selvagge sconcertanti e insieme stimolanti che lo assalgono il mirabolante sviluppo della tecnica caratterizza l'immagine dell'epoca insieme alla sconfitta all'estinguersi di concetti quali cultura spirito arte idea è evidente e ben comprensibile come in Mann prevalesse dopo l'ascesa al potere di Hitler e malgrado il riconoscimento delle impressioni stimolanti organicamente connesse a quelle selvagge della crisi una concezione totalmente negativa dell'irrompere delle masse nella cittadella della cultura una visione che ha segnato il rapporto fra umanesimo sameri umanistici e modernità ma non solo anche la riflessione sulla funzione della letteratura e dei saperi umanistici nella ricerca scientifica e nel sistema formativo questione su cui tornerò alla fine la crisi infatti in molti è stata semplicemente percepita vissuta e rappresentata ancora oggi non dal direttore di questa scuola ho notato come fine della cultura dell'Europa e del mondo pur se da altri è stata consapevolmente vissuta e analizzata con grande acutezza fino a divenire essa stessa materia di soluzioni creative e anche critiche e metodologiche con risultati ancora oggi fondamentali e insuperati con crisi dunque non intendo l'accezione puramente negativa che ha tanto circolato nella cultura europea dalla prima metà del novecento ad oggi soprattutto nell'interpretazione della cultura liberale più tradizionalista intendo anche il riconoscimento di quelle opportunità positive che ogni crisi porta notoriamente con sé a norma del resto delle radici etimologiche di crisi potrebbe essere divertente notare come non solo in greco ma in cinese la parola corrispondente a crisi contenga insieme sia la parte negativa sia l'idea che la crisi è fonte di opportunità non solo dunque l'angoscia delle classi dirigenti della vecchia Europa e dei suoi letterati riguarda ad una finis europe che in realtà riguardava innanzitutto la fine di una certa Europa e di un certo mondo ma anche le prospettive che quella crisi epocale apriva verso altre modalità creative e interpretative come in modo geniale negli anni trenta intuì e comprese bene Walter Benjamin i più avvertiti hoitzing ad esempio nel trentacinque collegano esplicitamente il processo anche alle trasformazioni avvenute all'interno del sistema culturale la stampa il giornalismo la fotografia lo sport e le comunicazioni di massa l'universo contadino e artigianale che per hoitzing e tanti altri comportava un preciso schema spirituale sul quale misurare la vita e il mondo sta ormai crollando e con esso anche il sistema culturale che ne era parte organica l'impero delle masse secondo un'espressione poi anche di Calvino ne mette per la prima volta in discussione dopo centinaia d'anni le strutture costitutive e i gangli vitali a cominciare dalla stessa idea di tradizione e con essa della funzione degli intellettuali e dell'intero senso della vita se avessi tempo sarebbe bello potersi soffermare sulla questione di cosa significa tradizione nella forma mentale degli intellettuali occidentali la reazione dell'umanesimo europeo al crollo della propria civiltà è quasi istintualmente difensivo proteso alla restaurazione dell'ordine è inquietante ma non tanto sorprendente che siano molto rare le risposte politico-culturali alte e che le uniche dirette a intervenire sul doppio aspetto della crisi siano dovute a due tedeschi Walter Benjamin e il filologo Ernst Robert Curzius le cui storie letture frequentazioni talvolta perfino le aspirazioni intellettuali si scoprono in più occasioni intrecciate pur se orientate in direzioni opposte posto dunque che tale sia la questione chiave ciò varrà tanto più per la filologia in genere ovvero per la disciplina fondativa dell'umanesimo europeo ma in particolare per quanto riguarda la storia novecentesca della filologia per la filologia romanza data l'organica relazione che sin dalle sue origini collega questa particolare filologia all'Europa ciò risultò chiaro nel colmo della crisi dopo l'ascesa al potere del nazismo a quei filologi romanzi Auerbach e Curzius innanzitutto che al rapporto fra crisi ed Europa dedicarono i loro capolavori mimesis e letteratura europea e medioevo latino anche per loro la crisi dell'Europa si presentava innanzitutto come crisi integrale della cultura in quanto crisi di una cultura europea fondata sull'umanesimo e sui saperi umanistici quindi certamente come crisi della filologia ma anche e qui risiede il loro contributo fondamentale come necessità opportunità di ricerca di nuovi spazi critici e nuove metodologie per una nuova e diversa funzione formativa della letteratura e della critica letteraria e innanzitutto della filologia che della letteratura rappresentava e ancora rappresenta credo l'altra faccia di uno stesso foglio da ciò la scelta in Auerbach e Curzius pur in diverse declinazioni di privilegiare i singoli passi o aspetti da cui illuminare il testo e la tradizione nella loro complessità da ciò la scoperta della lunga durata la longue durée poi francese nella critica di Auerbach e Curzius e la loro apertura a tutta la letteratura europea non solo romanza da ciò l'individuazione in ripresa da Kede in Auerbach di una Weltliteratur frutto di quella che oggi definiremmo letteratura globalizzata alla quale avrebbe dovuto corrispondere una Weltphilologie poi rimasta un vano sogno in realtà per quanto riguardava la filologia romanza la crisi e la rottura con la filologia tradizionale era già avvenuta alle soglie degli anni 30 ma già anticipata nel 1913 per quanto riguardava il cuore stesso della filologia e cioè l'ecdotica la scienza dell'edizione dei testi in un articolo del 28 Joseph Bédier approfondiva e completava quanto proposto nel 13 rifiutando e sconvolgendo tutta la teoria lachmaniana e neolachmaniana che era la base della metodologia e dei principi ispiratori sui quali si era basata fino ad allora la massima parte della filologia europea ed italiana quella più accreditata salvo eccezioni come quella di Ernesto Monaci che ora si rivela molto più importante di quanto non si fosse finora immaginato Bédier si dichiarava incompetente o disinteressato alla filosofia e alle sue problematiche ermeneutiche è però impossibile isolare Bédier dai sommovimenti che scuotevano la cultura e la filosofia francese ed europea a lui contemporanea è sintomatico che già vivo Bédier si ipotizzasse la vicinanza teoretica delle sue posizioni a quelle di Henri Bergson a prescindere dalle negazioni dello stesso Bédier denunciando il carattere soggettivistico del metodo scientifico lacmaniano a suo parere Bédier pur ragionando esclusivamente all'interno della critica testuale poneva infatti un problema ermeneutico e teorico che minava la pretesa del lacmanismo e di tutta la tradizione umanistica europea di poter arrivare sia pure in forma progressiva ed ipotetica ad una verità assoluta quella del testo così come stabilito dall'autore alla verità della parola dell'autore Bédier sostituiva la verità relativa del copista lettore il manoscritto dunque come documento storico più vero di un testo d'autore ricostruito modernamente quel testo reale era però depositato nella pluralità concorrente dei copisti e quindi in definitiva era sottratto sottolinei questo punto all'autorità e alla verità dell'uno dell'autore e del suo interprete il filologo era ormai un testo relativizzato così come erano state relativizzate la fisica la geometria e la filosofia dai grandi contemporanei dalla fine dell'ottocento in poi è interessante notare come ci sia quasi una corrispondenza perfetta fra l'enunciazione di alcuni dei fondamentali principi di fisica moderna d'einstein e heisenberg e il percorso di bedier nei protocolli teorici fondativi della moderna filosofia storicistica in vico il nesso tra filosofia autorità filologia e verità scientifica era invece ritenuto fondamentale e assoluto la filologia era identificata come una filosofia dell'autorità nella seconda scheda di cui riporto soltanto l'ultimo l'ultimo rigo viene questa scienza cioè la filologia ad essere una filosofia dell'autorità sottrare alla filologia la possibilità di raggiungere il testo dell'autor implicava perciò l'inserimento anche della filologia nella crisi della cultura europea la democrazia in quanto crisi dell'autorità stava corrodendo i paradigmi i generi la funzione della letteratura e con loro il rapporto autore testo lettore così come fissato nella cultura dell'elite umanistica europea fondate appunto sul principio di autorità e verità mettendo in crisi l'orientamento del triangolo autore testo lettore si colloca in modo del tutto originale in questa atmosfera politico-culturale occupando una posizione strategica quella del potere sul testo di chi ne gestisce la verità con la sua denuncia inverte anche a livello ideologico e simbolico generale quel triangolo gerarchico che sin da Dante collegava al vertice l'autore creatore e successivamente il filologo quale rappresentante scientifico dell'autore restauratore del verbo e della verità e quanto inecdotica era confermato iconograficamente nell'immagine eraldica e feudale dello stemma codicum dell'albero genealogico ove il vertice è l'albero genealogico della commedia ma sono tutti uguali più o meno ove il vertice è fissato ovviamente nell'originale il resto della tradizione è relegato alla base di un ideale triangolo fino alla superfluità o addirittura all'eliminazione i cosiddetti codices descripti eliminazione di quanto non è utile appunto alla ricostruzione dell'uno dell'originale Bediè abbiamo visto non teorizza in termini generali né trae le conclusioni implicite dei suoi ragionamenti ma siamo di fronte oggettivamente a una sfida complessiva posta dinanzi alla filologia moderna in quanto scienza crisi non tanto di e solo di un metodo ma di un'ideologia del testo e dell'autore su cui si fondava la storia e la forza della filologia la scelta del documento storico versus l'edizione ricostruttiva tesa al ripristino della parola dell'autore rappresenta teoricamente al di là di ogni discussione di merito sulla bontà del nuovo metodo la scelta del punto di vista dei lettori interpreti dei copisti del lettore rispetto all'autore quindi un'inversione della della piramide interpretativa lo aveva subito capito a suo modo nel 39 senza volerne però raccogliere neppure lui tutte le implicazioni anzi lottando tutta la vita per confutarle un allievo italiano di Bediè Gianfranco Contini che ho già citato grande docente di questa scuola cito da lui le sue teorie di Bediè non fanno che illustrare la libertà dello scriba romanzo la sostanziale equivalenza di nuova copia a nuova edizione ossia in altro aspetto la definizione stessa di filologia romanzo dal paradigma bedieriano deriva in parte nelle suggestioni profonde la spinta recente gli ultimi decenni verso le odierne edizioni monografiche per così dire critiche di singole antologie e di singoli manoscritti e anche quella filologia materiale proposta nel 1992 su antica suggestione di Ernesto Monaci indirizzata alla comprensione storica delle ragioni e del senso della copia e della ricezione del testo partire cioè dall'analisi coticologica dei singoli manoscritti per utilizzare poi tali analisi anche ma non solo nella definizione stemmatica e nella comprensione storico-culturale dei singoli manoscritti del testo del suo senso per i lettori storici e per noi oggi il riconoscimento dei documenti in quanto testimonianze in sé più valide di quelle ricostruttive apriva perciò la strada anche sul piano teorico al riconoscimento del lettore quale terza ineludibile componente della comunicazione e del circolo ermeneutico assumeva proprio reale obiettivo irrelativo e si apriva la cultura contemporanea anche nelle sue punte più d'avanguardia l'accusa di dadaismo scientifico che un altro grande docente di questa scuola Giorgio Pasquali rivolse a Bediè è più fondata e peraltro affascinante di quanto non supponesse lo stesso Pasquali di questa crisi dell'autore e del suo correlativo il testo secondo la sua dell'autore ultima volontà e non la pura disputa tecnica fra lacmaniani e bederiani come si chiamano comunemente la filologia ha iniziato a prendere parzialmente atto da un punto di vista metodologico ma non teorico soltanto dagli anni settanta e poi in particolare in Italia con Darco Silvia Valle nel 72 e sul piano metodologico con Roncaglia altro allievo di questa scuola che nel 74 proponeva sia pur con cautela di distinguere le modalità di edizione a seconda degli obiettivi e non di una presunta intrinseca validità dei singoli metodi è la quinta citazione di cui sottolineo soltanto queste poche frasi i due tipi di edizione da un lato il ricostruttivo e dall'altro il documentario non rappresentano un'opposizione di metodi in concorrenza per un medesimo scopo ma un'alterità di soluzioni pertinenti a problemi distinti e funzionali a scopi differenti l'alternativa che si pone ad ogni editore di testi non concerne dunque la metodologia generale ma la finalità specifica ma è forse opportuno ormai andare anche oltre la rivindicazione di pari legittimità fra i due metodi e trarne tutte le conseguenze storico culturali e metodologiche alla filologia del lettore dobbiamo riconoscere una dignità paritaria rispetto a quella dell'autore che rimane certo imprescindibile per recuperare la lezione dell'originale ma che non è sufficiente senza un'integrazione dialettica con la filologia materiale e la filologia del lettore all'antico triangolo teso la ricostruzione della volontà dell'autore si sostituisce a mio avviso con nuova consapevolezza una piramide di pertinenza critica a seconda del grado di competenza del lettore e quindi del tipo di edizione richiesta da quella fotografica a quella benieriana a la racmaniana a quella economica e tascabile il modo del resto corrispondente a una piramide interpretativa fissati questi punti critici in realtà dai molti possibili sviluppi che qui sono costretto a tralasciare occorrerà comunque sempre riaffermare con chiarezza non solo che filologia dell'autore e filologia del lettore debbano procedere insieme ma che ovviamente al lettore contemporaneo sfugge troppo non solo della verità dell'autore ma dello spessore del testo e quindi del suo valore estetico e della sua importanza non solo storica senza ricercare sempre e comunque la verità del testo sfuggirebbe soprattutto e definitivamente quella tensione etica per cui la filologia è nata e riveste una ragione sociale più che mai ribadita dagli sviluppi dei media e dei social e dal massiccio fenomeno delle fake news non la sicurezza di pervenire al testo verità ma il costante impegno come già diceva in realtà Bédier a perseguirla senza il quale credere magari crederemmo ancora che la donazione di Costantino a Papa Silvestro e i protocolli dei savi di Sion siano autentici e si noti l'aggettivo nella sua relazione con auctor e auctoritas sarebbe possibile approfondire e articolare ulteriormente alcuni aspetti del discorso sul piano più strettamente filologico ma ve ne faccio grazie vorrei provare infatti in questa seda ad allergare il discorso e a tornare sia pur rapidamente al rapporto tra filologia saperi umanistici e formazione vista la situazione sopra delineata cosa rimane infatti oggi della funzione formativa e critica della letteratura e della filologia in un mondo di media e social ovvero in quell'impero delle masse in cui imperiamo facciamo uno sforzo preliminare non diamo per scontati lo spazio e il tempo in cui ci muoviamo caratterizzati della velocità con la quale le premesse di cui abbiamo parlato si sono sviluppate e stanno ancora sviluppandosi sul piano temporale noi romanisti ma lo stesso discorso verrà per altre filologie mutatis mutandis dobbiamo pensare non al passato nel caso specifico al medioevo il tempo originario della filologia romanza ma al ventunesimo secolo un tempo ora per dirla con Benjamin immediato scandito dall'istantaneità della rete e però insieme da un gigantesco rimiscolamento dei poteri nel mondo sul piano spaziale però non dobbiamo pensare immediatamente come potrebbe essere logicamente conseguenziale al mondo e alla velte letteratura in cui siamo peraltro immersi ma al nostro spazio specifico di italiani europei al nostro qui ed ora e cioè al nostro spazio politico-culturale il nostro spazio sarà allora necessariamente l'Europa non il mondo dopo il mondo ma intanto l'Europa un'Europa però consapevole dei propri debiti storici nei confronti del mondo innanzitutto quindi un'Europa aperta al di là della sua crisi storica perché consapevole di uno spazio e di un tempo nuovo in cui la funzione interrelazionale è un dato organicamente costitutivo di ogni nato nella metropoli e fuori dalla metropoli anche negli slums nei deserti e nelle foreste purché raggiunto dal web Europa dovrà significare dunque ancora una volta cognizione o consapevolezza e consapevolezza della propria specificità di un'identità non contrastiva o ridicolmente imperialistica ormai ma fondata sul proprio spazio e sul proprio tempo dunque sull'attraversamento critico della propria tradizione della nostra tradizione proprio per capire e confrontarsi con l'altro senza derive oniriche e deliri fantascientifici che pure negli anni recenti abbiamo visto numerosi e pervasivi grazie alla rete e non faccio esempi ma immagino che siano chiari a tutti anche questo è un fenomeno già noto che però avrò ripreso paurosamente vigore lo denunciava sempre Thomas Mann negli anni 30 nello stesso articolo avendolo sperimentato già nella Germania contemporanea è l'ultima citazione che non vi leggo tranne forse nella parte finale noi tutti conosciamo questo volgersi dello spirito contro se stesso contro la ragione che esso ha maledetto e messo alla gogna in quanto assassina della vita spettacolo ardito e affascinante solo un po' sconcertante per sua natura cosicché sarebbe meglio non ammettervi un pubblico troppo vasto vedete come ritorna il problema della democrazia per il grande liberale Thomas Mann se sul piano critico Thomas Mann poteva vedere chiaramente quel che stava cambiando era ovviamente più difficile se non impossibile arrivare data la sua formazione e cultura ad una proposta diversa da quella da secoli ben nota ma ormai tragicamente inattuale in una frase conoscere se stessi una soluzione evidentemente organica ad una grande cultura di elite improponibile a livello di massa secondo i metodi della tradizione ovvero di ciò che veniva contestato eppure e in effetti dobbiamo riconoscere che ancora non sappiamo quale altra soluzione sia possibile è molto illegibile da questo punto di vista di quello che è avvenuto in Italia e in Europa recentemente proviamo però a partire dal precipitato di ogni grande crisi socio-economica e culturale a livello di massa dai riflessi della crisi proprio sulla funzione formativa come avevamo accennato in premessa la funzione formativa tradizionale dei saperi umanistici in particolare della letteratura e a forziori della filologia è ora evidentemente ritenuta quasi inutile anche per quanto ci riguarda soprattutto nelle istanze decisionali dell'Unione Europea rispetto ciò rispetto evidentemente al quadro complessivo degli studi scienze e tecnologie sono il vertice del percorso formativo esattamente come lo erano una volta le arti liberali proiettando le loro metodologie e i loro obiettivi anche nell'area umanistica è perciò opportuno e necessario ritornare preliminarmente sulla questione del nostro spazio e del nostro tempo del qui e ora e dunque sull'Europa come primo elemento di riflessione che la costruzione europea sia in grave crisi sotto la pressione di spinte centrifugo e di contestazioni interne ma soprattutto di pesanti pressioni dei grandi imperi mondiali è un dato di fatto ma il nostro orizzonte malgrado tutto non può essere che l'Europa pena l'autodistruzione non solo politica ma culturale tutte quelle idee che al di là di tante nefandezze hanno caratterizzato la civiltà moderna sono nate in Europa la tolleranza la democrazia la dignità delle donne la spinta all'uguglianza la solidarietà e così via in queste grandi conquiste dell'umanità non solo europea una parte molto rilevante anche a livello di massa l'ha avuta la letteratura contribuendo a formare potentemente su quei grandi ideali l'immaginario europeo e mondiale nella crisi della funzione formativa della letteratura c'è perciò uno spazio ancora enorme di riflessione possibile recupero critico di tutto il sistema ideale culturale ed emozionale dell'Europa non può però essere affidato soltanto all'iniziativa dei singoli insegnanti moltissimi dei quali peraltro straordinari e innovativi e dunque con quali strumenti e quali metodi vorrei partire da un'esperienza molto vasta e articolata quella sul versante letterario della fondazione lincei per la scuola che ormai da molti anni e ormai anche con l'accordo della scuola normale ha contribuito ad aggiornare diverse migliaia di docenti ricevendo al contempo moltissimi suggerimenti e indicazioni da parte degli stessi frequentanti quali sono gli elementi più rilevanti e frequenti emersi nei laboratori di letteratura da parte dei docenti proposti in base alla loro esperienza didattica e al consenso degli studenti quali quelli comuni al progetto di aggiornamento che noi gli proponiamo ne isolerei cinque partendo però da un elemento fondamentale che li collega tutti e che è ovviamente preliminare il bisogno e il desiderio degli studenti se stimolati e questo è verificato di utilizzare davvero lo spazio letterario scolastico per interrogare se stessi per capire la propria soggettività le proprie emozioni torno su questo termine e vi tornerò alla fine e il proprio tempo un fortissimo bisogno interesse comparativo questo è il primo punto non bastano nel caso della letteratura i soliti testi di letteratura italiana spesso ripetuti con inevitabile noia di grado in grado scolastico si vuole sapere come si colloca la letteratura italiana rispetto alle altre letterature ovvero quali sono i temi e i soggetti trasversali che possono interessare e parlare ancora a noi oggi in Italia e in Europa rispetto ad altre letterature e ad altri monti ma anche rispetto alle nostre radici territoriali e alla loro storia dunque una letteratura europea e insieme una dionisottiana storia e geografia della letteratura italiana due al punto precedente è intimamente collegata la traversata non solo comparatistico spaziale del fatto letterario ma anche temporale quindi il forte interesse di studenti e docenti per la lunga durata per la struttura dei fenomeni l'interesse associativo e analogico soddisfabile solo grazie alle analisi sul tempo lungo è un elemento potente nella costruzione dell'immaginario perfino quando si operano cortocircuiti alla nostra vista filologica e critica apparentemente deliranti come constatiamo nel fantasy o nelle serie televisive o nei fumetti con la commissione di supereroi moderni con gli dei greci nordici e così via il successo di tali cicli ci dice però quali sono i gusti collettivi e dunque non cosa dobbiamo abiasimare ma con che cosa dobbiamo confrontarci avendo tutto sommato molto da imparare terzo punto è organicamente legato ai precedenti e tradizionalmente fondamentale almeno per i filologi ancora una volta la centralità del testo letterario nel nostro caso le relazioni fra i testi l'interdisciplinarità che io definirei interna la letteratura esiste perché esistono i testi non la critica e la filologia testo dato o testo problema non mi riferisco ovviamente alla questione pur intimamente implicata del testo dato in lettura agli studenti e della sua verità filologica mi riferisco al fatto che se affrontiamo il testo in termini comparatistici dal punto di vista spaziale e temporale è inevitabile che vengano immediatamente implicate anche l'identità del testo e le ragioni del suo processo produttivo come è stato fatto e come si può disfare l'approccio intertestuale e il rapporto fra intertestualità interdiscorsività e intermemorialità hanno rappresentato e rappresentano un avanzamento critico decisivo non solo per il rapporto critica letteratura ma per la comprensione attiva del processo creativo e per l'approccio scientifico e didattico al testo anche dal punto di vista formativo quarto punto riguarda l'uso attivo di quella che definirei l'interdisciplinarità esterna in sincronia e in diacronia poesia e musica letteratura e drammatizzazione parole e arti figurative e così via ci riportano al confronto con i media e a quella che abbiamo definito letteratura diffusa la letteratura ha sempre intrattenuto un rapporto stretto con le altre arti dall'antico al moderno anche attraverso fenomeni di intertestualità interdisciplina interdisciplinare nella contemporaneità il fenomeno ha investito in modo comprensivo non solo le altre arti ma anche tutti i nuovi generi letterari e i media continuando a fornire vorrei sottolineare questo punto quando noi vediamo in televisione dei serial Compagnia Bella è ovvio vedere come non facciano altro che sfruttare archetipi personaggi trame situazioni e soprattutto emozioni desunte dalla letteratura quinto e ultimo punto la ricerca e la sperimentazione delle emozioni e qui naturalmente si potrebbe toccare con mano un po' malgrado la citazione finale di Vita Levi Moltalcini che ho molto apprezzato quanto sia distante la prospettiva delle scienze umanistiche e dei saperi umanistici da quella scientifica perché credo che ci sia voluto un certo sforzo per considerare le emotività le emozioni che intervengono nel cervello come un fatto non soltanto negativo che comprime la razionalità ormai sono alcuni anni che al riguardo soprattutto abbiamo notato in una bibliografia dopo l'11 settembre 2001 si è sviluppato un studio fortissimo del rapporto fra intelligenza emotiva e intervento delle emozioni nella politica nei saperi e nella scienza stessa il quarto punto riguarda dicevo questo sì l'ho già detto quindi l'ultimo punto la ricerca e la sperimentazione delle emozioni ovvero del nucleo fondante delle ragioni del fatto letterario e ormai come accennavo dell'intera organizzazione sociopolitica mondiale i tweet e quello che avviene nella rete sono una dimostrazione di questo fatto esprimere e trasmettere attraverso emozioni evocate mediante il linguaggio dunque la centralità della parola e della sua storia delle sue funzioni molteplici e della sua versatilità nei vari contesti sintattici e nei vari generi quella che è stata definita la sua grammatologia la funzione vitale della letteratura ancora oggi e quindi la sua importanza nella formazione ma non sono questi possibili cinque punti una larga parte di quel che oggi potremmo indicare come la funzione formativa della filologia e del suo possibile contributo ovvero non sono la possibile strada su cui lavorare per comprendere non solo le ragioni della crisi dei saperi umanistici ma anche la posizione particolare della filologia e della letteratura nella crisi tutto ciò però per produrre risultati adeguati dovrebbe accompagnarsi nell'università e nella scuola se non ad una rivoluzione formativa almeno una grande riforma che non solo non c'è stata ma che ha prodotto con la legge Germini che ancora vige esattamente il contrario distruggendo a volte anche i più avanzati tentativi di innovazione istituzionale manca dunque uno specifico livello istituzionale di riferimento ma persistono le esigenze da cui è nata questa riflessione che rimane affidata alla necessità di una scuola e di una formazione adeguata alle esigenze profonde della contemporaneità del qui e ora quindi non schiacciata su un presente dagli orizzonti ristretti esclusivamente disciplinari ma proiettata nel futuro e consapevole in quanto italiana ed europea del proprio passato ciò che distingue l'Europa e la sua cultura per esempio dall'America e da molti altri paesi leader affidata quindi alla riflessione critica intesa direi come della crisi innanzitutto degli umanisti e innanzitutto dei docenti universitari o non che dei saperi umanistici e del loro valore formativo hanno voluto fare una ragione della loro vita purché e qui concludo si sia disposti a rischiare e a porre in discussione i paradigmi acquisiti grazie allora ringrazio la toga ceduta ma questo poteva capitare ringrazio tutti quelli che hanno partecipato in particolare tutti quelli che sono intervenuti spero di vedere molti di voi al concerto questa sera grazie dichiariamo aperto l'anno accademico della scuola normale superiore grazie a tutti grazie a tutti